Se voi siete degli aridoni tecnici non capite almeno il 50% del problema che hanno i vostri clienti. Quindi tutti i vostri clienti ragazzi quando comprano qualcosa da voi stanno cercando di risolvere probabilmente in parte un problema pratico, oggettivamente qualcosa che gli serve, ma nel grosso le persone comprano molto poco le cose che gli servono e moltissimo le cose che desiderano. Quindi la vendita è molto di più su base emotiva in realtà che su base pratica. Ma il mio settore è molto particolare, ma i miei clienti sono molto particolari. No, perché il vostro cliente non esiste. Il vostro cliente è un tizio che entra prima in quella attività lì, poi esce dalla porta, entra in quella di fianco ed è sempre lui, c'è sempre lui. Gli si vende sempre nello stesso modo. Non è che voi avete i clienti personali, non so come spiegarvela, ma i miei clienti, non ci sono i vostri clienti. E' gente che nel mondo compra tutte queste cose a rotazione ed è sempre quello c***o lì. E indovinate un po', noi li venderemo sempre nello stesso modo. Cambia il prodotto, glielo dovrete spiegare in maniera diversa. Il prodotto è chiaro che spiegargli come si fa un razzo termonucleare diverso da ordinare una pizza al tavolo. Ok, vuoi vendergli una bottiglia di vino. E' ovvio che la spiegazione del prodotto sarà diversa. Ma in realtà la struttura della trattativa nel grosso, chiaramente, è uguale. E' sempre lo stesso stronzo che viene a mangiare la pizza, va in farmacia a pigliarsi le pillole su poste e poi va a fitness, va a fare la ginnastica, ok? E poi si va a fare dal medico chirurgo il lift. E poi va dal commercialista a farci gestire la contabilità perché è un c***o imprenditore. E' sempre lui! E' sempre lui che gira! Quindi smettetela con sto c***o, i miei clienti sono particolari perché mi viene la vena tipo Hulk, no? Come Superman, come Hulk mi viene. E' sempre lui, è sempre Isse. E' sempre lui. Poi, in alcuni casi, per acquisti particolari, è chiaro che se vado dal tabacchino a prendere le sigarette non è che sia da fare sta grande trattativa. Infatti non ce li abbiamo qua i tabaccai, ok? Però nella media, quindi, ci troveremo in funzione della complessità dell'acquisto, a seconda che è B2B, B2C, incrementeranno, diventerà un po' più complessa la trattativa perché ci saranno più persone. Quindi nel B2C, un conto è vado a comprare un pacchetto di sigarette, abbiamo detto prima per scherzare, un conto è vado a comprare una casa, è sempre B2C, però sono due business diversi. Se vado a comprare una casa non è che parlo con uno, normalmente, a meno che non sia un singolo sparato, parlerò con lui, ma ci sarà la famiglia, quindi normalmente moglie, marito o come è composto il nucleo familiare moderno non mi interessa, ok? E poi probabilmente ci saranno dei consulenti, amici, ci sarà l'amico commercialista, l'amico avvocato, l'amico geometra e ci saranno i genitori di uno o dell'altro perché magari partecipano economicamente, quindi vogliono vedere l'imono, quindi bisogna parlare con tutte queste persone e in realtà essere in grado di gestire una trattativa con più persone. Se sono nel B2B, in realtà, se è una micro aziendina, magari come alcune delle vostre, c'è il paron, parlo con lui, più l'azienda è grande, devo parlare col paron e una serie di soci, responsabili di reparto, eccetera, eccetera, finché l'azienda è molto più grande e quindi ci sono vari step che devo fare e arrivo a parlare con un CDA magari più complesso è strutturato. Lì il nostro concetto, ragazzi, non cambia perché le nostre trattative, quello che vedremo, cambierà da vendigli il prodotto, vendigli il servizio a scala verso l'alto, cioè l'obiettivo di ogni appuntamento è vendere l'appuntamento successivo, finché non sono arrivato in cima e lì tendo a giocarmela, quindi più è importante la progettualità di quello che faccio, più sono vasti il numero di protagonisti, più è ampio il numero di protagonisti che sia tra privati o che sia tra aziende, semplicemente quello che farò è vendere l'appuntamento successivo al livello successivo decisionale, perché alcune volte le trattative sono stratificate, quindi ovvio che non dovrò fare delle trattative complesse quando arriva uno che deve comprare una pizza, è ovvio se sono un ristorante, però magari per esempio sono un ristorante e devo organizzare, pensate anche nello stesso settore, sono un ristorante e devo organizzare un matrimonio, devo organizzare un catering, e lì ragazzi non è la stessa roba di arrivo e ordino la pizza, lì devi parlare con me, devi parlare con mia mamma, devi parlare con mi associazione, e devi organizzare, e tratta sul prezzo, e quanto c***o vuoi e dove la portiamo, cioè diventa improvvisamente lo stesso business si è trovato in un bagno di m***a nel fare una trattativa complessa, quindi a seconda di quello che faccio, chiaramente di come imposto il mio lavoro, cambia anche il risultato, quindi questo ragazzi come premessa scherzosa ma vera in realtà, nel senso che abbiamo a che fare con delle persone, appunto le persone hanno dei criteri decisionali, quando realizzate questo, che il signore che entra lì dopo entra dall'altra porta ed entra da voi ed esce e va da quell'altro ed è sempre lo, si dice in Emilia, capisco che più o meno sto parlando con la stessa persona e questa persona ha gli stessi criteri decisionali in realtà, è più complesso quando devo mettere d'accordo più persone, ragazzi ovviamente vedremo come si fa, ma la persona in sé ha sempre gli stessi criteri decisionali quando acquista delle cose, soprattutto sulla stessa fascia di importanza per lui, cioè se ci sono delle cose che a me non interessano, non so, l'esempio scemo di prima, vado a comprare le sigarette, vado a comprare lo zucchero, il pane, non è che il mio cervello attiva delle risorse incredibili, barriere di difesa, analisi della concorrenza, benchmark, vado a comprare sto c***o di zucchero e sale e va bene così, ma nella media qualunque altra cosa io vado a comprare che è rilevante per me, la compro secondo gli stessi criteri decisionali che vedremo. Caro imprenditore, davvero il tuo destino è fare la guerra ogni giorno contro clienti a caccia di sconti, collaboratori tossici e fornitori che ti tengono per la gola? Non è certo questo il futuro che immaginavi quando hai aperto la tua attività, tra settimane lavorative da 80 ore e soldi in tasca che non ripagano tutti i tuoi sacrifici. Eppure oggi oltre 24.000 imprenditori hanno imparato a battere la concorrenza e avere la fila di clienti altospendenti più di quanti ne abbiano mai sognati. Il loro segreto? Hanno partecipato a Kickoff, il primo corso di marketing a guadagno istantaneo. Frank Marenda, l'esperto di marketing numero uno in Europa, ti aspetta nel suo centro studi. Per te strategie pronte all'uso per moltiplicare i clienti, vendite e soldi in cassa, già testate con successo su migliaia di aziende. Scopri qui sotto l'offerta speciale per partecipare al prossimo Kickoff e approfittare di oltre 2.000 euro di bonus. Mettere insieme le due cose più importanti per vendere, anzi quali sono queste due cose più importanti? Uno è dalla parte dei clienti, quindi i loro criteri decisionali, quindi come loro decidono. Per esempio io se vado ad acquistare casa, dico una cosa importante per me, l'acquisto con gli stessi principi e gli stessi criteri decisionali che utilizzo quando vado ad acquistare l'automobile. È uguale, la mia automobile è uguale alla mia casa, non perché siano cose uguali, ma i principi di fondo, intimi, emozionali con i quali le ho scelte sono la stessa cosa, così come quando vado a comprare l'arredamento, così come quando vado a comprare i vestiti per me, così come quando compro la sede per me, così come quando assumo persone, non cambia niente, in realtà i criteri decisionali sono intimamente sempre quelli da parte delle persone, quindi quando li ho capiti una volta, non cambiano, a meno che non ci siano degli acquisti che per me sono irrilevanti, in realtà dico sì sì ma li sto delegando al mio socio, li sto delegando a mia moglie, allora io li dico sì sì ma in realtà non sono veramente quello che ha deciso, quindi una parte importante della nostra avventura insieme sarà capire chi veramente decide all'interno dei gruppi di decisione, lo vedremo, è una cosa non iper semplice, è completa da studiare, però quando la so poi dopo è semplicemente da fare, è più semplice, quindi c'è un passaggio che è la comprensione emotiva in realtà dei nostri clienti, quindi dei loro criteri di decisioni in singolo o in branco, secondo di come si presentano, l'altro passaggio è noi, cioè il problema della vendita ragazzi, dopo lo vedremo più nel dettaglio, di media sono io, cioè nel senso che non esiste la vendita di per sé, li vedremo, se no oggi che cazzo siamo qua a fare, sì certo, esistono i concetti astratti per l'amor di Dio, certo, esiste la teorizzazione della pratica che è quello che vedremo, il problema è che a seconda del, è una parola impropria ma la utilizzo, del tipo di carattere che avete si installano su di voi in maniera diversa, nel senso che come i clienti caratterialmente sono tutti diversi, hanno dei modi di esprimersi diversi, dei modi di processare le informazioni diverse, dei modi di capire o di non capire un cazzo di quello che gli diciamo, eccetera, eccetera, anche voi in realtà come professionisti della vendita, quando vi trasformate quantomeno in professionisti della vendita, perché molti di voi in realtà non nascono come professionisti della vendita, siete il titolare dell'azienda che tante volte se non c'è lui non si può fare la trattativa per il cliente importante, quindi ci dovete essere, quindi siete comunque il primo venditore dell'azienda o vi siete portati con voi insomma il direttore vendita o il venditore o la venditrice più importante dell'azienda, ma nella media ognuno di noi ha, soprattutto all'inizio quando non sono allenati e del vostro livello oggi, li chiamo così ragazzi per capirsi interno, ci sono dei limiti caratteriali, la maggior parte di voi parte ragazzi con delle caratteristiche di base che sono come siete abituati voi a vendere normalmente, allora avete la proprietà dell'italiano, oltre al dialetto locale che abbiamo visto prima, quindi sapete parlare in italiano, sapete spiegare, questo ve l'ha insegnato la vita, la scuola insomma, dovreste avere un minimo di gentilezza e buona educazione che dovrebbero avervela insegnata mamma e papà, chi per loro, quindi voi siete persone che sanno parlare, siete gentili, poi avete molto probabilmente una conoscenza piuttosto vasta del vostro prodotto e del vostro servizio, quindi siete competenti e in più alcuno di voi visto che è un po' magari che sta in piedi a fare le trattative, conosce nella sua testa qualche trucco del mestiere per trattare con i clienti, avete queste quattro cose, sapete parlare italiano, siete gentili, conoscete il prodotto e avete qualche trucco del mestiere, nessuna di queste quattro cose ha a che fare con la vendita in realtà, quindi in termini di vendita siete a zero realisticamente, perché la vendita è una skill, è un'abilità, facciamo che vada da zero a cento, voi naturalmente qualcuno di voi tende a essere più determinato, qualcuno di voi tende a essere più aperto, qualcuno di voi tende a essere più spigliato, qualcuno di voi tende a essere un po' più parac***o, qualcuno di voi tende a osare un po' di più a dire quella cosa che quell'amico di fianco, il collega di fianco non direbbe perché è più timido, più introverso, più bloccato, qualcuno insiste di più, qualcuno un po' più timido insiste di meno, qualcuno è più sfacciato, qualcuno non gliene frega un cazzo, qualcuno come me c'è la faccia come il c***o, cioè ognuno di noi esce con il suo assetto di fabbrica. Bene, tutte queste cose in realtà entrano a far parte del nostro modo di essere, del nostro modo di fare le cose. Bene, esiste in realtà un modo di, a prescindere dal nostro punto di partenza, di allenarsi per riuscire a erogare, quindi per fare una buona trattativa professionale, a prescindere dal carattere di partenza. Ora, non vi voglio vendere le c***o o l'impossibile, sapete che non sono un motivatore, quindi è tutto dentro di te, eccetera, eccetera, servono due cose, serve in realtà una voglia di imparare, credere che si possa in realtà imparare, perché se pensate che, non saremo qua immagino, però se qualcuno pensa, come molti pensano, che non si può imparare a vendere, è vero, non si può perché non ti ci impegni e quindi come qualunque skill non ti alleni. Io non posso sollevare 100 kg di panca? Certo, perché se non ti alleni non li solleverai mai, se magari ti prendi un personal trainer e ti alleni, prima o poi, nell'arco di un anno, due, non lo so, eccetera, eccetera, arriverai a sviluppare tecnica, forza, ma a sapere sollevare anche 100 kg di panca piana, ok? O di scuoto, o di quello che vuoi. Qualunque disciplina è così. La vendita è parto da zero, da zero a cento, quanto ne ho oggi? Eh, dipende dal numero di trattative, ragazzi, che chiudete, ok? Quante trattative su cento chiudete? Quello, quante trattative ogni dieci clienti, quanti ne chiudete? Ok, quello è il vostro livello di vendita oggi, una su dieci? Eh, da zero a cento siete dieci, che non è dieci, però su dieci, cioè dieci su cento, quindi vuol dire che c'è un 90% ancora da riempire, eccetera, 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 ok? Quindi non è che tutte le trattative si possono chiudere, perché i clienti vanno prefiltrati, i clienti non vanno bene, è un'esagerazione solo per capire in realtà in linea di massima il concetto, ok? Quindi serve una voglia in realtà di mettersi in discussione e una voglia di mettersi in gioco e una voglia di allenarsi. La vendita è uno sport di allenamento, cioè se capisco il concetto e mi ci alleno sopra, supero i miei limiti, in realtà è miglioro, quindi sviluppo i miei muscoli della vendita. Se non lo faccio, rimango preda dei miei limiti caratteriali. Quindi io sono fatto così, e lo so, ragazzi, ma non ci obbliga nessuno a fare i venditori, lo scopo di imparare a vendere è proprio rifiutare il sono fatto così. Anch'io sono fatto male, però quando devo vendere mi sforzo, cioè nel senso è da quando sono ragazzo, che io ho cominciato a vendere, avevo 19 anni perché avevo smesso di andare a scuola, e mi sono sforzato di imparare. Ho studiato, mi sono violentato, andato fuori di casa, dovevo mangiare e quindi mi è venuta voglia di imparare a vendere. Non avevo i genitori ricchi, non ho ereditato i soldi da nessuno, dovevo guadagnare, quindi mi sono messo a lavorare, così probabilmente anche per la maggior parte di voi in generale. Quindi il punto, ragazzi, è che hanno questi due aspetti, i clienti e noi. Se io riesco a lavorare sulla comprensione dei clienti e nel mettermi in gioco, mettermi in discussione, lavorare sui miei muscoli, in realtà, della vendita, chiunque di noi può raggiungere comunque dei risultati più che soddisfacenti. Sono più che soddisfacenti per il suo settore, comunque sarete molto meglio di qualunque dei vostri concorrenti, quindi in realtà siete oltre al livello che vi serve. Il dato, ragazzi, è che se invece io sono bloccato e mi blocco e non penso che queste cose debbano essere allenate o si possano fare perché i miei limiti mentali in realtà superano la volontà di imparare a vendere, quello è un problema. Poi ragazzi, oggettivamente ci sono base 100 delle persone che sono completamente traumatizzate dalla vita e inadatte alla vendita. Se sei così introverso, sei così, non voglio vendere a quelle persone lì il concetto di e ti renderò un grande, questo non parla neanche, deve fare un altro messo, va a farlo idraulico, con tutto il rispetto che idraulico non botto più di noi, però è per capire, quindi non è che io voglio violentare le persone, no, chiunque, diciamo, chiunque di voi abbia un'attività aperta al pubblico è abituato a parlare con le persone, quindi con voi penso con un certo livello di sicurezza di dire avete delle skill di base che possono essere migliorate, ok? Quindi non è che voglio prendere la gente a casa e dire tutti devono essere, tutti si vede, no, è una c***a, ok? Voi sì, ok? Voi potete farcela, ok? Perché avete delle aziende, non è che abbiamo preso della gente a casa, voi siete tutti imprenditori, liberi professionisti, gente anche che ha studiato, quindi fate i bravi, ognuno di voi può migliorare. È chiaro che ognuno di voi, inizi, ha i suoi c***i, ok? E quindi deve mettersi in gioco e è a disposizione nel migliorare quelle cose. Sono delle analisi che si possono fare a livello personale, singole, ok? Che noi utilizziamo anche quando lavoriamo internamente, quando facciamo le nostre selezioni del personale per i venditori, per indicare alle persone esattamente su quali sono gli aspetti personali sui quali lavorare, ok? Dopo magari ve lo facciamo vedere, però non è urgente e importante. Allora, partiamo, ragazzi, velocemente. Che cosa intendiamo noi per la vendita professionale? Cioè che cosa siamo venuti a fare, ok? Facciamo questa carrellata insieme per chiedirci le idee. Allora, la vendita consiste nel aiutare le persone a prendere decisioni che miglioreranno la loro vita. Punto. Questa è la definizione più semplice, più pratica, più concreta. Quindi possibilmente non bisognerebbe inc***are la gente, cioè bisognerebbe vendergli delle cose che siano utili oggettivamente per loro. Utili, ragazzi, non è, state attenti, perché qualcuno, e non lo avete perché non avete la vostra analisi, è un po' arido emotivamente, quindi pensa che essere utile a qualcuno significa essere utile solo dal punto di vista materiale. In realtà essere utile significa essere utile materialmente, in alcuni casi dipende da quello che vendiamo, ma essere utile anche dal punto di vista emozionale, emotivo. Quindi ci sono delle persone che comprano delle cose non perché gli servono, ma perché le vogliono. E non è che sono stupidi, è perché emotivamente queste cose le fanno sentire meglio. Nessun uomo qua dentro, che è un imprenditore, visto che fate dei bei soldini, ha bisogno di quella c***o di Mercedes, BMW, ultra c***o, turbo in c***o che vi siete comprati. Non ne avete bisogno e non fa niente di più di una scoda di c***o di una Dacia Sandero. Andate nello stesso posto, però ne avete bisogno emotivamente. Non vi sentireste bene, perché? Perché quando andate a casa i vostri amici vi dicono dopo anni che siete ancora degli sfigati, che avete fatto dei c***o, il vostro padre vi dà del fallito e quindi avete bisogno di tornare a casa. Non ne avete bisogno realisticamente, con la Dacia Sandero andate da qualunque parte dove andate con quella macchina che avete, però ne avete bisogno emotivamente. Oh, esempio scemo, abbiamo un sacco di ragazzi, noi dottori che sono dentisti. Io metto a posto la bocca, da una parte c'è un problema di funzionalità, è vero che magari ho un problema, non so, nella masticazione mi manca un dento, quindi c'è un problema di funzionalità in bocca, ma c'è anche un problema che emotivamente mi sento male perché mi sento brutto, se ho la pianola in bocca. Sono entrambi i problemi, c'è un problema emozionale e c'è un problema anche pratico. Se voi siete degli aridoni tecnici non capite almeno il 50% del problema che hanno i vostri clienti. Quindi tutti i vostri clienti ragazzi quando comprano qualcosa da voi stanno cercando di risolvere probabilmente in parte un problema pratico, oggettivamente qualcosa che gli serve, ma nel grosso le persone comprano molto poco le cose che gli servono e moltissimo le cose che desiderano. Quindi la vendita è molto di più su base emotiva in realtà che su base pratica. Noi dobbiamo mediare questa cosa, stare attenti che le persone quindi non comprino scemenze per esempio. Cos'ho detto? Consiste in aiutare le persone a prendere decisioni che miglioreranno la loro vita. Le persone tratte dall'emotività spesso prendono delle decisioni stupide. Ho fatto l'esempio stupido dell'auto e lo ripeto da questo punto di vista. Cioè se io sono un bravo venditore, sono un bravo consulente finanziario, io dovrei oppormi in realtà, sono un bravo consulente imprenditoriale per voi, quindi io apro il vostro bilancio, facciamo una mastermind insieme, io apro il vostro bilancio e discutiamo. E io dovrei, da buon padre di famiglia, dissuadervi da comprare il Mercedes nuovo. Se guardo i numeri da bilancio mi dice che c***o non ci sono. Voi emotivamente sareste portati a fare quella spesa perché come rivalsa sociale volete fare quella roba lì e io vi spiego invece che prima dovete pagare le fatture che avete arretrato ai fornitori perché vi state indebitando in un bagno di m***a e non dovete aumentare leasing e cose del genere. Quindi le persone si sono portate, se non sono guidate da noi, a fare anche decisioni stupide, sbagliate sull'onda dell'emotività. Quindi noi dobbiamo mediare questa cosa, cioè dobbiamo essere dei consulenti, qualunque cosa facciamo, super partes, per dare i migliori consigli possibili alle persone. Chiaramente ragazzi noi non siamo dei consigliatori, cioè nel senso noi risolveremo veramente i problemi delle persone quando gli venderemo il nostro prodotto al nostro servizio. Non è la chiacchierata con noi che farà la differenza, sarà che quella chiacchierata con noi dovrà arrivare a dare al cliente il nostro trattamento, il nostro prodotto, il nostro servizio, la relazione con noi, quella cosa che gli stiamo dando, deve averlo aiutato meglio di come lui aveva pensato all'inizio. La maggior parte dei venditori o delle persone, dei professionisti, non hanno chiara sta cosa, cioè pensano che, visto che hanno avuto magari brutte esperienze con venditoria, giustamente, capisco, sono stati truffati, hanno avuto tutta una serie di esperienze negative con il mondo della vendita, la rigettano e pensano che, ma il cliente mi deve dire lui quello che vuole, deve sapere lui quello che vuole e io se ce l'oglio e lo do gli lo spiego gentilmente è lui, poi deve decidere lui. E no, questa roba non ha niente a che fare con la vendita, in realtà, ragazzi, se no è self service, non funziona così, se no saremmo tutti stramilionari e non ci sarebbe bisogno di… In realtà i clienti hanno una vaga idea di quello che gli serve veramente, hanno un'idea più pronunciata di quello che vorrebbero e il nostro lavoro è convincerli ad acquistare quello che li aiuterà veramente nella vita e non quello che sono spiegati. I clienti arriva con un'idea sbagliata, per ignoranza o per un insieme di ignoranza, non ignorano perché è cattivo, noi siamo gli esperti ovviamente, questo si sarà informato un po' con gli amici, con una roba che aveva già comprato, un po' su internet, dove c***o ha trovato le informazioni sul nostro settore, quali tipo di informazioni poi avrà delle informazioni un po' raffazzonate, arriva con delle informazioni raffazzonate e con una pulsione emotiva che lo spinge ad andare in quella direzione. Io lo devo fermare, non è che lo devo fermare dal comprare, lo devo ridirezionare, quindi serve ovviamente per fare questo, conquistare la sua fiducia e credere in quello che possiamo fare per lui, in quello che vendiamo, quindi di conseguenza gli elementi chiave della vendita includono credere nel proprio prodotto e costruire fiducia, questo è il passaggio fondamentale. Molti di voi in realtà, molti di voi magari no, ma insomma alcuni tra di voi, dico così, o molte tra le persone che hanno a che fare con la vendita, lo vedremo più nel dettaglio, non ci crede nei suoi prodotti, cioè non gli piacciono, non è convinto in realtà che siano veramente la soluzione ai problemi del cliente, un po' perché non capisce il cliente, un po' perché in realtà proprio non... ma in maggior parte delle aziende per esempio, il venditore se non è il titolare, il titolare è convinto perché è lui il titolare dell'azienda eccetera eccetera, ma il grosso del problema è che in azienda vengono messe a vendere o a trattare con i clienti perché poi l'assistente alla poltrona è un venditore, una venditrice, il cameriere è un venditore, cioè tutte queste figure, il banconista è un venditore in realtà, cioè quello che parla col cliente, non mi interessa se la parola venditore non vi piace, siete il c***o il venditore, chi parla col cliente è il venditore, ok? Non ci sono i clienti che comprano da soli, smettete la vostra roba. Abbiamo due aspetti, uno è nelle aziende per esempio avete delle persone che fanno a gara chi butta via la palla, non lo vuole, prendo per esempio gli studi dentistici, no? Perché c***o non performano come potrebbero performare? Uno, eh no io sono dottor e io non parlo di soldi e parli con la mia segretaria, ma anche la segretaria non ne vuole un c***o di fare la venditrice perché quella è stata pagata per fare la segretaria, quindi lei nella sua testa inserisce documenti, non parla con nessuno, cioè deve guardare il monitor, non rompersi il c***o, ok? Chattare su Telegram con la manca, cioè deve fare quelle cose lì, non ha nel DNA la tendenza di, io il mio stipendio continuerà a essere pagato se quando arriva il cliente io gli venderò il trattamento se avranno in grado di presentare il preventivo e poi poveretta magari il vostro studio è così organizzato male che non è nemmeno chiaro chi c***o deve fare sta roba, cioè il problema è che chi vende al cliente nella maggior parte delle vostre attività manco è chiaro, io vengo nel studio di vendita e si buttano tutti la palla fuori, io sono la segretaria e non c'entro, il dottore non fa, e chi c***o mi deve vendere la roba? Nessuno, mi fanno un c***o di preventivo, me lo mandano via mail o me lo stampano e io devo decidere da solo se lo voglio o no, nessuno mi ha venduto un c***o, o in altri casi semplicemente un'azienda anche di produzione, c'è la gente che sta in produzione e poi ai clienti che provano ogni tanto a chiamare ma insomma oggi non si usa più, a scrivere, a mandare delle e-mail, innanzitutto non gli rispondete, non gli rispondete, gli rispondete dopo settimane, non gli rispondete a sta gente, gli rispondete via messaggio, nessuno che contatta questa persona ha il telefono, quindi gli rispondete, non c'è nessuna trattativa perché la trattativa con i clienti, abbiamo detto, è enormemente parte emotiva, se voi rispondete a messaggini, le estetiste che fanno le trattative con i clienti su whatsapp, io vi ammazzo, dovete smettere di mandare e-mail, le e-mail whatsapp sono a scopo confirmatorio dopo che avete parlato con l'agente, dovete imparare a, io devo spiegare delle cose purtroppo che la moderna tecnologia ha rovinato, ai miei tempi non esistevano, era ovvio che tu dovevi, le trattative si fanno, io vado a casa del cliente e il cliente viene da me, io vado in studio in azienda da lui e il cliente viene in azienda da me, o c'è il telefono, oggi ci sono le video call, ma non si fanno tipiti un cazzo, basta tipiti tipiti, dovete parlare, dovete parlare con le persone, no tipiti tipiti, la persona che voi fate parlare, parlo come imprenditori se non siete voi, non è addestrata, non è un cazzo di venditori, non è una venditrice, è un impiegato, un'impiegata che avete messo lì, che ogni tanto risponde lui perché non c'è il reparto vendita vero in azienda, quindi qualche povero st***o in azienda si trova il centriolo in c***o di dover parlare lui con i clienti e cosa potrà fare, non è addestrato, non ne sa niente, manco ne voleva un c***o perché il problema è che questo, probabilmente gli state pure sui c***o come titolari, perché lo pagate poco e vi siete appena comprati il Mercedes e andate in ferie, questo vi odia, questa ragazza vi odia, vi vorrebbe vedere morti, la gente che lavora con voi rastendamente vi vorrebbe vedere morti, questa è la verità, e quindi tutto a voglia tranne che rompersi il c***o e far funzionare la nostra azienda, prendendosi sulla schiena il concetto di dover vendere per voi, magnifica, non ce l'ha, e quindi anche gli sforzi che farete in termini di marketing sono buttati nel cesso perché poi chi deve parlare con i clienti non è addestrato a fare questa cosa. Io sono andato tante volte nei ristoranti, studio dentistico, estetiste, aziende in generale, entro e la persona che mi accoglie, la tipa che è lì che mi accoglie, oh c***o, cioè se andavo dentro e gli c***o per terra mi guardava meno male, cioè solo perché sono entrato gli sto su c***o, quindi o mettiamo qualcuno che è lì per fare il venditore realmente, realisticamente, oppure il grosso del problema che avremo in realtà sarà questo. Tornando a noi, perché esiste venditore e vince, questo è il mio primo corso, ho fatto la prima volta 13 anni fa, ci sono due aspetti che tutti tengono divisi, quindi il metodo di merenda nasce per questo motivo, perché io nasco come venditore e tutto quello che ho studiato sulla vendita, ho studiato tutto quello che esiste al mondo sulla vendita, ve lo giuro, sono una sorta di enciclopedia umana in realtà di tutti i vari metodi di vendita, nasce da venditori che insegnano, hanno insegnato altri venditori, quindi a partire dai maestri, Bob Opskin, Zig Ziglar, Brian Trace, chi c***o vuole, ok, va bene, ok, fino ai metodi più strutturati, ok, quindi non so come spin selling, selling and learning system, customer centric, cioè ce ne sono quanti ne vuole, io li ho studiati tutti, nascono comunque tutti da venditori che insegnano ad altri venditori, e va benissimo, non è quello il problema, ok, il problema è che tutta questa gente non conosce, cioè parte da un presupposto che da quando parto col cliente in avanti, io parto a parlare con il cliente e da lì in avanti ho delle tecniche che, nel tempo quindi mi sono reso conto che questa cosa a me era un piove c***o, perché parlavo con un sacco di persone che non erano in target, con un sacco di gente, è una brutta parola, perdi tempo, nel senso con un sacco di persone che non era qualificata, non avevano i soldi, cioè tutta una serie di rotture di pagina, o parlavo con persone che non erano decisori per esempio, quindi perdevo un sacco di tempo a presentare progetti, c***o, eccetera, eccetera, quindi è veramente complicato, ok? Allora io dopo un po', a forza di, quando ho esaurito di studiare tutto quello che c'era da studiare sulla vendita, ho detto, c***o, comunque non funziona sta roba, non funziona perché è un problema a monte, non perché non sia vero quello che stanno dicendo questi grandi insegnanti, sono tutte cose vere, ok? Ma il problema è da ricercarsi in un'altra parte, quindi gira e rigira, atterro su quello che è il mondo del marketing o della lead generation, o quello che noi oggi chiamiamo, la nostra scuola c'è il posizionamento, quindi la ricerca dell'idea differenziante e del marketing a risposta diretta, cioè arrivare a avere un'idea veramente differenziante sul mercato e poi creare quei sistemi che attirino a noi i clienti e li filtrino per lasciarci quelli che sono i clienti più giusti possibili, tra virgolette, e respingere in automatico quei clienti invece che non vanno bene per noi, quindi si dice il marketing prequalifica i clienti, quindi dovrebbe restituirmi, farmi parlare solo con dei clienti che sono prequalificati, cioè premotivati al mio prodotto o servizio, che hanno già, sono già a conoscenza della mia idea differenziante, possono decidere e vogliono decidere subito magari, quindi sto parlando con la persona giusta, hanno il budget ancora, possono effettivamente, rientrano nel range della possibilità di spesa di acquistare qualcosa da me, perché in alcuni settori più manifesto e in alcuni settori meno manifesto, cioè se io sono ragazzi un acquirente target scoda, non mi verrà mai in mente, a meno che non voglio andarmi a vedere le macchine e di entrare nel concessionario della Lamborghini, perché so che non me le posso permettere, sì le vado a vedere, ma insomma non mi metto a fare una... quanto costa e me la può personalizzare? No, ok? Nelle vostre attività, la maggior parte delle vostre attività, anche nella mia, cioè non è così chiaro in realtà, no? Cioè gli scaglioni di spesa e quindi il marketing in realtà, quindi con il brand e il marketing, dovrebbe occuparsi di fare queste cose, cioè di restituirmi delle persone che sono prequalificate, quindi premotivate almeno al 70% a valutare una relazione con me, perché gli piace la mia idea differenziante. Il problema dei markettari è che se voi parlate con uno che fa solo marketing, il problema è che per lui il marketing fa tutto, cioè nel senso secondo lui la gente poi si dovrebbe suicidare, quindi se voi fate un corso di marketing, alla fine le rendite automatiche, il marketing che vende, il marketing non vende un c***o, cioè il marketing in realtà fatto bene, mette una persona davanti a un venditore, questo fa il marketing fatto veramente bene, mette una persona qualificata possibilmente se il marketing è fatto bene davanti a un venditore, poi mi serve l'ultimo miglio, quindi il venditore dall'altra parte invece deve unire questa cosa perché evita di perdere tempo a reclutare clienti facendo prospecting, quindi chiamate a freddo, telefonate a freddo, campanelli a freddo nelle aziende, nelle case, tutte queste cose e in più evita che gli arrivino semplicemente persone in azienda, in negozio, in studio che non sono completamente qualificate, quindi io mi ritrovo a diventare un preventivificio e basta di persone che poi confrontano il mio preventivo per qualunque cosa sia, o gli dico semplicemente il prezzo, il costo del servizio, che sia un parrucchiere, che sia un dentista, che sia, gli dico quanto costa quello, non avendo percepito niente di me, perché non sa niente, prende il foglio che gli ho dato, la mail che gli ho girato o la cosa che gli ho detto a voce e si fa il giro delle sette chiese e sceglie in maniera sbagliata perché non è in grado di decidere, decide solo in base al prezzo perché io non gli ho dato altre informazioni in realtà normalmente per decidere. Quindi come venditore io vorrei lavorare, vorrei spendere il mio tempo per parlare solo con clienti qualificati possibilmente, perché è lì che ci sono i soldi. Dall'altra parte c'è l'aspetto del marketing, se il marketing mi dovrebbe produrre opportunità di fare appuntamenti qualificati 24 ore su 24 e portarmeli. Bene, quindi io ho capito nella mia piccola intelligenza che questi due mondi non dovevano stare separati come sono presentati fuori dalla mia scuola, ma erano in realtà la stessa cosa. Quindi dovevo avere una lead generation fatta in maniera intelligente e dovevo avere dei venditori che però quei contratti li chiudevano. Sapete qual è la prima battaglia che faccio con chi lavora con noi per esempio, fai corsi di marketing o addirittura insomma gli facciamo un certo tipo di lavoro di agenzia, gli giriamo i lead, che tu devi rispondere ai potenziali clienti che compilano, chiamano, lasciano i dati in una forma e si tratta, hai quattro minuti per rispondere. Quattro minuti. Cioè dopo i quattro minuti se voi non rispondete la persona si rompe i c***i, ho già sentito qualcun altro, si esmona, non funziona. E la maggior parte di voi quando gli arrivano email e richiesti di contatto risponde dopo un giorno, dopo un giorno è tardi, dopo due giorni è tardi, dopo una settimana è bruciato. E quindi io ho a che fare con tutte queste aziende qua perché l'imprenditore magari mi segue, quelli che lavorano con lui no. Se non c'è l'imprenditore che controlla la mattina e la sera, queste persone non richiamano neanche i clienti, non li richiamano. Quando entra un'opportunità ti si accende un c***o di segnale, si suona l'orolo, bim, devi lasciare quello che stai facendo e chiamare il cliente. Marketing e vendita, ma una braccia, tu devi richiamare in tempo reale i lead quando parleremo di questa cosa, li devi chiamare in tempo reale, non mi interessa che c***o stai facendo. E per fare questo c'è una persona che voglia fare il venditore o la venditrice, che ami il cliente, non odi le persone e che soprattutto non sia uno che lo fa a perdita di tempo perché se tu stai massaggiando dei c***o nel centro estetico, non puoi lasciare da massaggiare il c***o per rispondere al telefono, ci mancherebbe. Il problema è che manca la persona che di mestiere, zio cà, tira su quel c***o di telefono o chiama il cliente, lo contatta o gli manda un messaggio per fissare un appuntamento per potersi incontrare o poter parlare dal vivo al telefono. Questo va fatto in tempo reale, con entusiasmo, passione eccetera eccetera. Quindi il marketing dovrebbe fare una serie di cose, dovrebbe programmarsi all'inizio per mandarmi dei clienti superando tutta una serie di obiezioni che sono nella testa del cliente, che sono più o meno le obiezioni standard del nostro settore, che non sono tante obiezioni in realtà, ma sono più che altro dubbi, paura, incertezza, uno che non sa, il marketing è lì proprio per in realtà risolvere anche queste obiezioni. Quindi è qui proprio che si incontrano, è nelle obiezioni diciamo che marketing e vendita si incontrano. Perché? Perché il marketing dovrebbe fare la sua parte all'inizio, però rimane il fatto ragazzi che le persone non sempre vedono tutti i nostri materiali di marketing, non sempre li leggono bene, non sempre li capiscono, che è la parte più difficile. Quindi io non posso come venditore buttarla sempre in c***o dal marketing. Eh ma mi è arrivato questo che però quella, perché sennò diventa la lotta, era mia era tua. Questa roba non bisogna farla in azienda, ok? Ognuno fa con quello che gli arriva sul piatto e dà il 200%, perché? Perché ragazzi io sono sicuro di avere il marketing migliore che esista nel mio settore eccetera eccetera, rimane il fatto che gli ho mandato 10 video e la gente non li ha visti. Posso portare il sommaro al fiume ma non posso obbligarlo a bere, no? Ecco, il marketing è uguale, non è che lo devo fare ovviamente, ma sapendo che da un certo momento in avanti la persona ha capito, ha frainteso, non ha capito, ha visto, non ha visto, ok? Non è importante. Lo scopo del marketing, ragazzi nel grosso, è aiutarmi a sgrossare e a portarmi una persona con la quale parlare. Poi c'è il venditore, perché sennò saremmo tutti ricchi ragazzi con una c***o di landing page e due pay per click su Facebook. Non lo siamo perché ovviamente serve la gente con i c***i a vendere, quindi a trasformare l'interesse in qualcosa che sia cucito su misura, sartorialmente, per il nostro cliente. Lo può fare solo il marketing, non lo può fare perché il marketing è vendita uno a tanti in realtà, ok? Ma quando ho qualcosa di leggermente complesso il venditore fa la differenza, quindi queste obiezioni devono essere in grado di essere risolte sia dal marketing ma anche dal venditore. Entrambi devono essere dei draghi sapendo in anticipo che questo tipo di obiezioni ci saranno sempre. Quindi la nostra strategia non è mai raccontare la rava e la fava del nostro prodotto, dare un prezzo e aspettarsi le bombe da parte dei clienti che sono queste obiezioni. In realtà il marketing cerca di risolvere in anticipo queste obiezioni, il venditore durante la trattativa è lui che tira fuori questi argomenti volontariamente per discuterli prima ancora di arrivare alla presentazione definitiva diciamo del piano, del prodotto, del progetto, del servizio, di quello che è, in modo da evitare di avere obiezioni stupie. Alla fine sulla quale io vado in esaurimento, perché devo solo difendere, non si superano ragazzi le obiezioni alla fine, cioè sono troppe, troppo tardi, ok ho fatto un casino. Quindi il venditore in realtà, proprio perché vuole aiutare il cliente, solleverà queste obiezioni nei momenti giusti, vedremo quando sono durante la trattativa e le risolverà. Una è il tempo, la persona è occupata, non è il momento giusto per fare questo investimento, non è il momento giusto per fare questo acquisto, tutte queste cose qua. Quindi ovviamente il valore, non posso permettermelo, è troppo costoso rispetto a quello che pensavo, chiaramente il marketing deve lavorare su questa cosa, mi dovrebbe mandare una persona con le cose già risolte al 70%, però poi la persona quando arriva lì comunque ha dei dubbi, comunque ha delle domande, comunque il finanziamento, ma quella cosa, ma si può fare, e tu devi essere pronto, ok? Cioè il venditore non è che gli ha già detto il marketing, non è così, il marketing ha fatto un pezzettino e tu fai l'altro, ok? Cioè è come dire, lo so che è un esempio scemo ragazzi, scusate, è calcistico, è come dire che noi vinciamo con la squadra solo con i difensori e i centrocampisti, e se non c'è la punta che la butta qualche centrocampista ogni tanto segna, ma nella media il venditore è la punta che la butta dentro. Ancora, il marketing all'inizio su cosa deve lavorare? Sulla concorrenza, cioè nel senso il cliente quando arriva è lì che sta valutando più opzioni, quindi il marketing dovrebbe spiegare al cliente perché dovrebbe comprare o meglio valutare me rispetto alla concorrenza, piuttosto sappiamo che addirittura non fare nulla, ma questa cosa noi dobbiamo essere in grado di farla in tempo reale, il venditore deve essere a conoscenza in maniera specifica della concorrenza, deve sapere tutto della concorrenza, dobbiamo sapere tutto della concorrenza ed essere in grado di posizionare il nostro prodotto, il nostro servizio contro la concorrenza. Contro la concorrenza ragazzi non significa contro il poro Cristo che ha la vetrina, cioè non è contro qualcuno, ma è contro dei modi di lavorare, contro dei modi di porgere il servizio, contro dei modi di pensare, contro delle filosofie di lavoro, non è contro, ok? Quello è io sono meglio, non è così, ok? Significa che ci sono intorno a noi dei modi di fare le cose, dei modi di fare i trattamenti, dei modi di fare questo servizio, dei modi che sono diversi, noi la facciamo in questo modo e su di te probabilmente questo è il modo corretto di fare le cose. Il marketing la deve conoscere, i venditori su questi la devono sapere come l'ave maria, dovete essere preparatissimi, non è che sono io il cliente, il cliente non compra nel vuoto, il cliente compra in quella situazione dove ci sono io e un sacco di concorrenti, voi dovete essere maestri in realtà anche della concorrenza, tutti noi. La pertinenza non sono sicuro che sia giusto perfettamente per me. Il marketing non riesce a risolvere questa cosa perché il marketing può dirmi sono nudo e hai bisogno di un vestito, ma poi il sarto se non me lo cuce addosso sembra un c***o. Il venditore è il maestro sarto in realtà, io te l'ho messo davanti, tu adesso ci parli, l'ho lavorato il più possibile e adesso le misure le devi prendere tu perché se no non c'era bisogno che stavi lì, non c'era bisogno di pagarti uno stipendio delle provvigioni. Ancora, l'autorità, ho bisogno dell'approvazione del mio partner, il mio partner può essere il partner mio sposo, che è mia moglie, mio marito, mio compagno, può essere il partner in termini di business, quindi possono essere i miei soci. Il marketing deve aiutarmi da questo punto di vista, a spiegare alle persone chi dovrebbe essere coinvolto in questa decisione, quindi come coinvolgere, come ti dai, il venditore deve essere in grado di creare la mappa che abbiamo detto prima e poi di scalarla in caso sia necessario appuntamento che vende appuntamento, appuntamento che vende appuntamento di più persone coinvolte. Tante volte, ragazzi, io mi trovo a parlare con qualcuno, la maggior parte delle volte è così. La persona che clicca sulle mie sponsorizzate su Facebook non è la persona che decide realmente se poi quel prodotto, quel servizio, quel corso si viene a fare, non è quello che tira fuori i soldi. C'è qualcuno in azienda che magari è il socio, il figlio più giovane, il socio più interessato, ma quello vecchio un po', quello che ha fondato l'azienda, quello gli tira il culo tirare fuori i soldi, non è così sensibile a queste s*****e, il marketing, quelle s*****e lì nuove, no? E quindi bisogna convincerlo, c'è tutta una strategia di persuasione per arrivare a parlare con lui e spiegargli che sì, non c'è il socio o il figlio c*****o, in realtà sì, si è fatto i c*****i tante volte, ma questa volta ha cliccato sulla sponsorizzata giusta. Il marketing ovviamente serve a dare tutte le informazioni possibili al cliente, ma chiaramente la parte importante è quella di superare questo tipo di obiezioni e portare la persona a decidere immediatamente. Velocemente, in realtà c'è una rapida carrellata. Le obiezioni sul timing, superare le obiezioni sul momento giusto include mostrare alle persone che non c'è mai un momento perfetto e che il loro stato attuale è il motivo per cui devono iniziare ora. Non c'è il momento perfetto, il problema è che tu hai un problema e il problema dice che il momento è adesso, perché se continui ad avere il problema il problema non si risolverà nel tempo, non è dormici sopra che passa, più passa il tempo più il problema si acuisce. Le obiezioni sul valore vengono affrontate, dopo lo vedremo, enfatizzando il potenziale eroi monetario emotivo, c'è il ritorno sull'investimento e chiedendo se il risultato finale valga più o meno il prezzo richiesto. Dobbiamo diventare ragazzi bravi a disegnare il risultato finale nella testa del cliente e spiegargli vale o più di quello che ti ho detto, poi in proporzione alla concorrenza di tutto quello che abbiamo detto prima. Opzioni di pertinenza. Le obiezioni di pertinenza richiedono che le persone riconoscano la necessità di cambiamento e l'allineamento della loro azione con il risultato desiderato. Bisogna che ci sia una parte che lavoreremo, che è il concetto del pain, le persone devono riconoscere, come abbiamo visto prima, la necessità di cambiare, quindi devono essere spinte la necessità di cambiare e fare in modo che l'acquisto e quindi di conseguenza l'allineamento della loro azione si allinei con quello che è il risultato desiderato. Le obiezioni di autorità spesso implicano portare le persone a capire che hanno bisogno di sostegno, non di permesso dai loro partner soci. Innanzitutto, le obiezioni di evitamento vengono affrontate guidando le persone attraverso le esperienze passate, che cosa hai fatto, che cosa hai comprato prima, come sei abituato, che cosa ti hanno venduto prima. esaminando il processo decisionale presente e considerando l'impatto futuro delle loro scelte. Vi do adesso, ragazzi, dei framework da portare a casa così come sono, che utilizziamo noi, utilizzo io, per diventare bravi il più velocemente possibile. Il primo modello si chiama CHIARO, perché c'è un acronimo. Quindi, come funziona? A sbagliarvi, da zero dovete formare una persona che è appena entrata. Primo passaggio, chiedigli perché sono qui, la C, la C dichiara, chiedigli perché sono qui. Chiedisci il motivo della loro presenza e i loro obiettivi. Questo è. Arrivo a parlare con i clienti. Qual è il motivo? Perché stiamo parlando? Perché oggi siamo qui, questo è il concetto. Che cosa ti aspetti? Cosa ti aspettavi? Cosa vorresti realizzare? Quali problemi vorresti risolvere? Parliamo. Non ho niente da venderti. Vorrei capire. Siamo qui, esattamente, al di là dei prodotti o dei servizi che ho io. Esattamente di cosa stiamo parlando? Zit. Comincio a fare delle domande, in realtà. Avendo questo approccio che è basato su un'intervista, su uno script che dopo vedremo, una serie di domande che partono dal CHIARIRE perché siamo qui, continueremo e hai capito il loro problema, quindi individua e definisci chiaramente il problema del cliente. Quando comincio ad aver individuato il problema che il cliente vuole risolvere, indago i tentativi passati, perché è difficile che la persona venga da noi e sia completamente a zero. Non perché magari si sia rivolto già a un nostro concorrente diretto, alcune volte si è rivolto a concorrenti indiretti. Abbiamo dei ragazzi nel fitness, alcune volte le persone hanno già provato tanti tipi di allenamenti e le ragazze non sono dimagrite o hanno provato delle diete che non hanno funzionato, per esempio, o hanno provato dei trattamenti dimagranti nei centri estetici e non hanno funzionato, quindi ci sono concorrenti che sono diretti e concorrenti che sono indiretti. Devo indagare che cosa succede, che cosa ha fatto la persona, i tentativi passati. Non chiedete mai alle persone, visto che immagino che io non sia la prima persona con la quale stai parlando o con il quale hai provato nel corso del tempo dei mesi di anni di risolvere questa cosa. Adesso parliamo di che c***o hai fatto prima di venire qua e mi spieghi come mai siamo qui, visto che il problema non mi sembra risolto. Aiutali a visualizzare la soluzione, ok? Presenta la tua soluzione come un beneficio concreto, non solo come un prodotto o un servizio. Non mi devi vendere che mi scannerai la bocca col trap, mi devi vendere che ci avrò il sorriso e riuscirò a masticare. Non voglio sapere che sei un macellaio, non voglio vedere il film dell'orrore. Mi devi vendere semplicemente la parte finale, perché probabilmente arrivarci comporta da parte mia fiducia, sforzo, paura, super alto una serie di cose. Poi R risponde alle loro preoccupazioni, affronta e dissi ogni dubbio e obiezione chiaramente, ma le solleveremo noi durante la trattativa e offre un supporto continuo, accompagna il cliente nel processo di adozione della soluzione garantendo un'esperienza positiva. Quindi devo aiutare il cliente, si chiama onboarding, quindi significa che non è che io prendo il cliente, gli vendo una roba e lo lascio lì, ma in tutta la parte che noi chiamiamo il dopo, lo condurremo insieme a noi in realtà a usufruire al meglio del nostro prodotto e del nostro servizio con follow up, assistenza e soprattutto il nostro supporto continuo ha un duplice obiettivo, uno far godere il cliente effettivamente bene del nostro prodotto e del nostro servizio, l'altro obiettivo è che continua a stargli sopra e quindi continua a vendergli roba. Più il cliente è soddisfatto, più ho la possibilità di fare cross selling, up selling eccetera eccetera eccetera. Questo è il primo framework ragazzi che devo avere in testa, il primo modello, questi sono i punti, se io ho già questo e comincio a fare queste cose, le vostre trattative anche se siete a zero e anche se lo fate a braccio, cominciate a chiuderle molto di più, fate un grande lavoro sui clienti semplicemente con questo. Il secondo tipo di modello si chiama modello speech, qui dobbiamo sottolineare ragazzi l'importanza, e lo faremo insieme, dobbiamo sottolineare l'importanza del tono e della fiducia nel prodotto che possono superare le abilità di vendita consolidate. Non è solo, ho capito il concetto, il problema è che c'è un problema di tono quando vendi, è un problema di determinazione, è un problema di empatia col cliente, è un problema di entusiasmo, è un problema di credo, è un problema di determinazione, è un problema di trasmettere queste emozioni, accogliere le emozioni e trasmettere le emozioni. Chiunque creda veramente in ciò che vende avrà naturalmente un tono persuasivo e sarà naturalmente più bravo anche di uno tecnicamente più preparato, ma che ha un tono di m****, è una cosa che va allenata, è un allenamento costante, cioè voi dal tono che avete normalmente, la vendita è lì. Certo che c'è la tecnologia, però la tecnologia senza ragazzi il tono giù, cioè la vostra impiegata storta che risponde ai clienti ha voglia di portarla ai corsi, come il cavallo zoppo la devi abbattere, io non gli voglio vendere i corsi, la dovete mandare, cioè non funziona, non funziona. Il marketing non può fare questo, il marketing non ha tono, non può fare questa cosa, lo script non ha tono, ok? Il venditore fa la differenza. Hai un ristorante, c'è un cameriere, il cameriere deve essere un drago, c***o, non può essere. Porta un'acqua? Gassata? Figa, amaremma, siamo molto lontano, molto lontano. Passaggio importante, avere un corposo libro delle testimonianze vi serve sia per superare le obiezioni dei clienti, ma soprattutto per infondere fiducia nei venditori. Se voi avete un libro di testimonianze pieno di clienti che dicono c***o, mi hanno aiutato, eccetera, se lo date ai venditori, il venditore si convince che noi siamo utili, che facciamo delle cose buone, ok? Quindi il libro delle testimonianze serve in trattativa per mostrare, o anche nel marketing, quindi serve sia nel marketing che in trattativa da superare magari qualche obiezione. Guarda, anche lui, anche lei erano messe come te, credono questa cosa, poi in realtà facendo le cose insieme le cose sono cambiate. Ma serve per formare i venditori. Certo che mi serve sul cliente, ma mi serve perché la gente che viene a lavorare con me costantemente deve essere immersa in quel clima positivo dove noi possiamo fare la differenza per i clienti. Dovete mostrare le testimonianze ai venditori e formarli su quello. Quello alzerà il tono dei venditori in trattativa. Qual è il terzo framework che è importante? È il modello della crescita. Vi do quali sono i punti? Il primo punto è script. Cioè in azienda dovete avere un copione di vendita che è basato sulle domande. Perché io sono quello che domanda normalmente e il cliente deve parlare, non il contrario. Essere sotto interrogatorio non è un buon modo per gestire e condurre una trattativa e vendere. Se siete voi che state parlando del prodotto o servizio è un problema. Se il cliente vi sta parlando delle sue esigenze e noi attraverso una serie di scoperte arriviamo a formulare su di lui un'offerta specifica, funziona molto meglio in termini di chiusura. Si chiudono molte più trattative. Non si va a braccio. C'è uno script. Saranno delle domande scritte e devo imparare a lavorare con uno script. E tutti i venditori devono eseguire le stesse domande. Perché i clienti sono tutti diversi e proprio perché i clienti sono tutti diversi io devo riuscire a scandagliarli singolarmente per sapere come sono diversi. Perché se tutti i clienti sono diversi e quindi ogni cliente dice quel cazzo che vuole, non ci sono trattative. Cioè è la follia e non c'è niente ad analizzare. Come faccio analisi delle trattative? Se tu quella roba a lui non gliel'hai chiesto. Ma lui stava parlando dei film. E me ne frega un cazzo. Te gli devi chiedere la roba che ti ho detto io. Perché per quello che stiamo vendendo noi devi parlare di quelle cose che ti ho detto. Dobbiamo indagare quelle cose specifiche che ti ho detto. Non parlare a casaccio. Allenamento quotidiano. In azienda dovete installare questo. Include parlare, ascoltare e i giochi di ruolo. Quindi si prende lo script e si fanno i giochi di ruolo. Io faccio il cliente e tu fai il venditore. Adesso guardiamo questo blocco. Adesso mi fai queste domande. Io ti rispondo così e vediamo tu in tempo reale come reagisci a quello che ti dico. Allenamento ragazzi. Tutti i giorni. Se non riuscite tutti i giorni è una volta ogni due giorni. Però il concetto è che se voi arrivate e siete tutti storti, arrivate da fuori con i c***i che avete in testa e siete arrivati in ritardo, il traffico, e parlate con i clienti. Siete storti. La trattativa è una m***a. Arrivate, un minimo di ruolo, vi scaldate, accendete il cervello, ripartite con le domande, alzate il tono, alzate l'entusiasmo, uscite dai problemi della vita quotidiana, tornate nel lavoro. Allenamento quotidiano. E arrivano i clienti e siete pronti a fare le trattative. La trattativa funziona. Se non lo fate, se non vi allenate, ragazzi, non funziona. Non funziona. Sarete sempre, ho capito, so, sta cosa, non me ne frega un c***o se hai capito. Lo so che non sei un c***o, per me che non la sai fare. Fai schifo, perché quando parli sei... Non me ne frega un c***o se hai capito. Avete rotto il c***o, ma la so. Non me ne frega un c***o se lo sai. È il conto in banca che parla. Il conto in banca dice che non la sai è a sufficienza. Fine. Abbiamo finito di discutere. Registrare le trattative. Per conformità e formazione interna. Noi lo facciamo addirittura come servizio a chi lavora con noi. Facciamo i mystery shopping, cioè chiamiamo i vostri venditori. Noi li chiamiamo. Noi li chiamiamo, registriamo la telefonata, ve la facciamo sentire. Vi facciamo vedere come rispondono alle mail, in quanto tempo rispondono. No perché io qua e là i clienti che mi girano sono muovi. Adesso ti faccio sentire che c***o ho detto questa che ti metti a rispondere al telefono. Adesso te lo faccio sentire e gli imprenditori, la prima volta, appena ascoltano, si fanno il segno della croce. Gesù Cristo! E capiscono che c'è un problema di. Quindi serve a voi come imprenditore, a parte gli scherzi, per capire se avete la gente che quantomeno si sta impegnando. Non è il gioco becca allo s***o, serve all'inizio solo per capire se uno ha un minimo allineato, cioè se un minimo si sta impegnando. Serve al venditore stesso perché tu ti riascolti e con lo script dici, sta parte l'ho fatta bene, sta parte l'ho saltata, sta parte è andata male. Quindi capisco su cosa mi devo allenare, quindi non è ho fatto un corso, ho ascoltato Frank, non c'è da capire, c'è da imparare a fare, è una skill. Colloqui per feedback e miglioramento continuo, quindi attraverso lo script, attraverso le registrazioni eccetera eccetera, analizziamo anche gli allenamenti, quindi analizziamo gli allenamenti che facciamo insieme, quindi il direttore, l'imprenditore, il direttore vendita a seconda di chi avete, deve seguire questo framework, se volete crescere ragazzi in azienda, serve uno in azienda che faccia questa roba qua. Ancora contest e piani di carriera, cioè mantenere il morale e fornire opportunità di crescita. In azienda per chi vende è molto importante che ci sia, noi abbiamo costantemente dei contest che mettono in palio premi, premi in denaro, mettiamo in palio, in realtà i nostri guadagnano tanto, quindi i premi in denaro non è che gli interessano più di tanto, li faccio in c***o perché gli metto in palio, per esempio per chi questo mese ha venduto più o per chi questo mese ha procurato più referra, o questa settimana, li facciamo anche settimanali, abbiamo il parcheggio, perché noi qui abbiamo sei parcheggi, non è che abbiamo parcheggi per tutti, abbiamo tipo sei parcheggi per la rete vendita, ma i venditori sono 15, quindi quelli che raggiungono gli obiettivi e in più i primi sei hanno il parcheggio e gli altri vanno a f***o se ne vanno al silos. The walk of shame, cioè la camminata della vergogna, non hai preso gli obiettivi te ne vai a f***o al silos come tutti gli altri, così dovete vedere come ci picchiano dentro come degli assassini, quindi a parte gli scherzi, abbiamo come incentivi per chi raggiunge degli obiettivi, premi economici, il parcheggio nel nostro caso specifico, abbiamo giornate in smart working, quindi di lavoro, però puoi stare a casa, quindi puoi fare il lavoro da casa, perché si può fare da contratto, quindi vinci le giornate in smart working e vinci le giornate di ferie pagate, per esempio, quindi non è proprio smart working, si può vincere ferie pagate da noi, eccetera, quindi potete scegliere tutta una serie di conte, in più ragazzi poi c'è il concetto di chi diventa bravo, voi in azienda dovreste crescere, sviluppare, quindi piani di carriera, quindi diventare, gestire il suo piccolo gruppo di venditori e tutte queste cose qua, questo crea la rete vendita, quindi se voi volete farla funzionare sta roba, cioè dovete fare questa roba qua come imprenditori, anche internamente, cioè se ognuno di voi, bisogna fare i contest, bisogna registrare le trattative, allenarsi costantemente e fare in modo che ci siano contest e piani di carriera e quello funziona, perché quello spinge le persone ad allenarsi, se non c'è nessun motivo, perché tanto quello che faccio faccio, quello che non faccio non faccio, nessuno si rende conto se faccio, se faccio bene o faccio male non mi cambia niente, non guadagno niente in più, è una rottura di coglioni, è chiaro ragazzi che poi la gente non si affeziona alla vendita, perché il vero segreto è questo, l'altro framework importante è il modello prima, significa anziché nel tempo voi dovete abituarvi a prepararvi a fondo prima di qualsiasi incontro o chiamata importante e potete farlo, se sono già clienti è perché dovreste aver creato comunque una scheda cliente, se non avete creato una scheda cliente nel caso in cui in realtà siano clienti nuovi, lo faccio in maniera diversa, quindi dedico un buon lasso di tempo per ricercare e capire a fondo la persona o l'azienda con cui parlerai, devo condurre l'aula, so esattamente con chi sto parlando, dovessi fare una trattativa singola, recupero il dato singolo vostro e parlo con voi sulla base di quei dati, questa preparazione ragazzi dimostra il vostro impegno e la vostra dedizione rendendo più facile mettere in mostra il vostro valore, quindi quando voi parlate ragazzi con un cliente dovreste avere dedicato tempo prima, il prima è il marketing che fa determinate cose, ma c'è un prima anche del venditore, se c'è una pizzeria, uno entra in maniera una pizzeria che posso averlo studiato, nel tempo magari lo registro e mi segno le sue abitudini di acquisto, quindi so che prende sempre la diavola con la birra e quello diventa importante, però per qualunque altro business nella media dove ho la possibilità di studiare un po' la persona, dove ho da fare delle trattative più importanti, devo studiare il cliente, per chi lavora nel B2B ovviamente ci sono le aziende, posso estrarre i loro dati, noi lo facciamo, ci sono le banche dati, i dati di fatturato, margini utili, sono in crescita, sono in stallo, sono in crollo, esistono anche i social, quindi prendete ragazzi l'abitudine di fare i compiti prima di qualsiasi interazione, quindi utilizzate risorse come LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, i siti web aziendali, il report di settore per raccogliere informazioni, i clienti vi mostrano come vivono, cosa fanno, il loro stile, cosa gli piace, semplicemente anche nei privati, sui social c'è tutto di queste persone, cercateli, se li trovate avete tutta una serie di informazioni, neanche gli dovete dire oh ti ho spiato su Instagram, ho visto che c'avevi il c***o, non è così, è un'informazione che avete e quando dialogate tirerete fuori l'informazione al momento giusto, al posto giusto, che vi aiuterà a mostrarvi estremamente più preparati rispetto alla concorrenza, quindi questo personalizza la trattativa, già avete fatto il 100% in più rispetto a qualunque concorrente e non è nessuna tecnica a diventare, semplicemente perché avete studiato un minimo c***o. Quindi questo sforzo, ragazzi, il preincontro vi aiuterà a porre le domande pespicace, a fornire soluzioni pertinenti, dimostrando la vostra serietà riguardo alla collaborazione che dovremmo mettere insieme, anche semplicemente se dovete passare il cliente al collega, non si deve parlare da zero, gli do la scheda, dico guarda questo cliente così, parla con loro, fai sta roba, a posto, c'è la scheda, una volta si dice, è giusto, la ricchezza è nella lista, cioè se io vengo a comprare una vostra attività, il vostro studentistico, il vostro ristorante, io non è che vi pago l'avviamento di sto c***o, io vorrei la lista clienti perché ci devo fare marketing sopra, come faccio a vendere la mia attività? Per toglierti dalle balle dovresti avere una lista dei clienti, in realtà stai vendendo quello all'acquirente, e dovresti vendere la lista corredata con le informazioni, quindi le schede clienti, se tu mi vendi la scheda cliente e io la tua azienda la pago quello che vuoi, puoi anche non venire più tu, preparati la sia, punti, elenchi i puntati, ho anche una breve presentazione, scheda cliente, e questo vi aiuterà a rimanere organizzati e a fare un'ottima impressione durante la conversazione. Se voi siete preparati, è più efficace di qualunque tecnica di vendita, è contro i miei interessi dirvi questa cosa, perché io vendo tecniche di vendita e tecniche di persuasione, ma in realtà è vero, quindi io dico la verità. Adesso vi do un altro passaggino, il metodo vergognosamente facile per vendere di più le cose più costose. Perché fate fatica a vendere le cose a margine o le cose più costose? Il primo problema è che voi non vendete, quindi i clienti vi chiedono delle cose e voi gli dite il prezzo, e questo non è il nostro modo di lavorare, quindi il cliente vi chiede delle cose, chiaramente, voi rispondete, quindi non state spingendo ovviamente le cose più costose. Due, siete timorosi, ci sono due aspetti, uno che mi fa una pantera e l'altro ve lo capisco. Vi è capitato di sicuro, perché non posso essere l'unico che mi capitano tutte a me, quindi anche voi vi sarà capitato di prenderla un po' in c***o nella dita. Allora, di andare, per esempio, in un negozio, quindi non cito nessuna attività specifica, in un negozio o in un'attività, io vedo una borsa o qualcosa, chiedo, scusi, si può vedere quanto, e la commessa o il commesso? No, ma quella guardi è cara, guardi quella che è meglio. Vi è capitato qualche volta che cerchiano di demotivarvi a quello che state guardando, proponendovi una soluzione più economica? Perché il commesso è un comunista di m***a, povero, che mi vuole offendere la mamma dicendomi che non mi posso permettere quella borsetta di m***a, allora io per punizione gli compro il negozio di m***a, lo abbatto, ci metto le mucche di cartone così non c***o e lo licenzio, perché quella è la mia vendetta quando mi dici, no, guarda questo, ho anche questo che costa meno. Chi c***o t'ha chiesto niente? Testa di c***o. Ti compro e ti metto a fare il nano da giardino, c***o così, ti compro e ti metto a fare il nano di gesso nel giardino. Non ti devi permettere, c***o, di dirmi che c'è qualcosa di meno. Non te l'ho chiesto, non ho chiesto il prezzo, non ho chiesto quanto costa, ok? Io odio questa cosa, è una battutaccia adesso, però per capire, nel senso che anche noi tante volte per tendenza possiamo essere portati ad avere paura della vendita, quindi spingere le persone verso soluzioni che costano meno rispetto magari alla versione top che noi potremmo avere e loro non ci hanno detto che non la vogliono, siamo noi che ci cagliamo addosso. Oppure, per non sbagliarci, tante volte partiamo nel mezzo, no? Cioè cerchiamo di dargli una roba che non è né la più cara, né la più versione più di merda, ok? Questi sono tutti errori, cioè rispondere a quello che mi dice lui, dirgli che abbiamo una roba meno cara o partire dalla metà, si fa il contrario, ok? Adesso ve la faccio, vi do lo script, lo potete usare con un minimo, ragazzi, di buon senso, non è che è la parola magica, però vi serve per capire il concetto in realtà, ok? Il modello si chiama modello top target, quindi significa che io parto ribaltando la frittata in realtà sul cliente, ok? E lascio decidere lui, ma lo faccio in una maniera sottile in modo da invogliarlo a. Quindi è, guarda Giovanni, per aiutarti a decidere, facciamo così, invece che stare qua a perdere tanto tempo, io per comodità ti mostro la versione più, adesso come voi lo state facendo, più completa, più costosa, più bella, più full option, qualunque cosa state facendo, il prodotto o servizio, in modo che tu per valutare abbia lo standard di riferimento per massima qualità e prezzo che abbiamo, non ti sto vendendo niente, io ti mostro il top di gamma, in modo che tu abbia semplicemente il riferimento. Parto dall'alto, io ti faccio vedere quello, così capiamo i parametri, perché vi serve, adesso lo vediamo nel dettaglio, per mille motivi. La maggior parte delle persone, se gli mostrate la roba più figa, semplicemente per l'orgoglio, se se la può permettere, la compra, perché non vuole dirti no, ma se è invece molto più difficile, se partite dal basso, aggiungere gli optional, sembra che gli state in c***o roba, invece se io, guarda, ti mostro semplicemente il top di gamma, poi mi dici te cosa vogliamo togliere, così senza bisogno che stiamo a perdere tempo, ti mostro il top, tu l'hai come standard di riferimento. Ancora, perché è estremamente importante? Perché dà alle persone anche il valore vero, in realtà, di quello che voi state vendendo, cioè magari lui comprerà veramente una soluzione più bassa o media, però non litigherà sul valore, perché ha capito perché bisogna togliere delle cose o perché, cioè, se vuoi di più, costa di più, ma io parto già da lì, e quindi non c'è da discutere dopo sul prezzo, in realtà, perché io sono già partito mostrandoti, dandoti il riferimento, togliendoti il problema, ma è caro, non è caro, perché se vuoi di più, si può, però il problema è che bisogna aggiungere, in realtà, con quello che investi c'è questo qua, come gliela sistemo questa cosa, guardate. Se mi permetti, da lì ti dirò cosa secondo me non è strettamente necessario per te e tu mi dirai se concordi o meno, ci muoviamo da lì nel trovare la soluzione su misura per te. Io ti dirò cosa secondo me per te questa cosa non serve, magari la possiamo togliere così spendiamo qualcosa in meno, tu mi dici cosa ne pensi, concordi o meno. Se voi lo fate con me, mi dite questa cosa secondo me a te non ti serve, io vi dirò, sì ma comunque lasciala che non stiamo a perderti. Così, io sono il cliente perfetto, se tu mi hai mostrato la versione top io non farò mai la figura di comprare qualcosa. Io mi sono sempre fatto, tutte le macchine che ho sempre avuto, adesso non le ho più, ma quando compravo le macchine, io la volevo in pronta consegna e qui i concessionari sono un po' diversi dall'Italia, hanno in pronta consegna solo le macchine, per esempio super accessoriale, quindi una macchina che costa 100.000 euro, loro hanno la versione da 160.000, non è che hanno la versione come fanno gli italiani, quella con i finestrini gnic, 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 la daccia non ce l'hanno, quindi ti danno la versione che costa il doppio rispetto al prezzo dell'istino. Io arrivavo, questa vuoi che la ordiniamo, togliamo, non togliamo un c***o, pago tutto. Quindi questo è il passaggio, glielo suggerite in maniera gentile, elegante, fate in modo che sia lui, no no no, lasciamo, ormai che siamo qua, ormai che siamo qua, f***o. Oppure, dall'altra parte, guardate che bellino questo passaggio, è possibile che noi non siamo al tuo livello, quindi se non ho comunque qualcosa, guardate che complimenti che gli state facendo, se non ho comunque qualcosa al tuo livello, ti consiglio io un fornitore, un professionista ancora più caro, che fa delle cose diverse. Cioè se io ho il concessionario dell'Audi e il top di gala, l'ammiraglia non ti piace, ti mando io a c***o quello della Bentley, inutile che sto qua a cercare di convincere, non ti preoccupare, io ti mostro il top di quello che ho. Se non è al tuo livello, me lo dici e ti mando io, ti trovo dei fornitori che facciano delle cose diverse. Oppure, se per te invece il prezzo è il fattore primario, a scapito del resto, ti consiglierò un fornitore, un professionista onesto, che però lavora con prodotti di livello più basso che noi non trattiamo. Guardate com'è, non c'è nessuna tecnica, è un po' manipolatoria, però è molto elegante, è da figlio di indrocchia, però è molto gentile, molto carina, molto onesta. Cioè io non nascondo niente, io parto al top di gamma, partiamo da qua, a togliere mi dici te, siamo sempre in tempo. Se non sono al tuo livello, ti consiglio io qualcuno, se invece per te il prezzo è il fattore più importante, a scapito in realtà della qualità, ti consiglio dei professionisti onesti, che però lavorano con dei materiali o dei prodotti diversi, che noi non trattiamo per scelta, perché noi ci posizioniamo ad un certo livello in su. In questo modo, ragazzi, con la vostra attività voi avete incrementato immediatamente, solo se fate questo, immediatamente avete incrementato non solo le vendite, la persona è sempre trattata meglio, è più orgogliosa di comprare da voi, si sente più capita e compra delle cose più costose in maniera ripetitiva. Poi per chiudere, ricordatevi, c'è l'ultimo modello che è il modello dopo. Ricordatevi di fare sempre, ovviamente, follow up dopo gli incontri, un'email rapida che riassume i punti chiave discussi, insieme ai prossimi passi, che dimostra professionalità, mantiene vivo l'interesse. E questa piccola azione rafforza lo sforzo che hai fatto costruisce fiducia. E in più il follow up, ragazzi, serve per continuare a tenere vivo e aperto il rapporto con la persona per fare cross selling, per continuare a vendere. Il follow up, per continuare a sapere la persona come ti sei trovato, è tutto a posto, va bene, eccetera, eccetera. Continua a tenermi, il follow up, quanto vi inseguiamo email e messaggi e chiamate, la carta a casa, e voi non la fate sta roba, e non è che io strano, è che nel tempo dovrete andare in quella direzione. Però il modello, ragazzi, che vi ho fatto vedere prima, vi risolve tantissimo, soprattutto all'inizio, i problemi che, se non avete, se avete i venditori fuori classe, ok, il venditore fuori classe riesce a fare con maestria up selling, cross selling, cioè vendere altro, dare la versione superiore, se non avete dei venditori straordinari, come è possibile, soprattutto all'inizio non abbiate venditori straordinari, fate come vi ho detto, non vi serve fare up selling, partite direttamente della versione top, io ti faccio vedere il top che abbiamo, per esempio c'è qualche agente immobiliare, non io ho fatto l'agente immobiliare, è così, voi non partite battezzando il cliente dalle topaie, soprattutto se questo poi rompe i c***i, voglio offrire di meno casa mia, di più o di meno, fategli vedere la casa più figa che avete, per questi soldi c'è sta roba qua, quindi casa tua non può valere così, per zona, per tipologia, per detratura, per prestigio, eccetera eccetera, oppure quando vogliamo andare a comprare, con i soldi che mi vuoi dare te, una roba così bella non si compra, avete già risolto tutti i problemi della trattativa successiva, dopo capiamo veramente la persona, lui si rende conto che se voi non glielo fate vedere la persona non capirà mai, ma mi sembra poco, no, lo standard è questo, certo che si può un po' trattare, ma la casa, l'appartamento è questa qua, costa così, un po' di più, un po' di meno, ma non è la metà come c***o vuoi offrirmi te per avere una roba simile, di che c***o dobbiamo fare, no effettivamente in realtà facciamo il mutuo e allora adesso vediamo, parliamo con i genitori, capite ragazzi che si mette a posto la situazione, ma se voi non lo fate, non ci saltate fuori, quindi partite demotivandoli al massimo, per i soldi, cioè per la roba che vuoi te costa così, zio c***o, quindi vedi che c***o vuoi fare, però una volta che glielo avete fatto vedere, si dice che l'appetito viene mangiando, quindi le persone se sono in target, se possono avere il budget, negoziano molto meno, perché hanno comunque capito i parametri, non è che non negozia, ma hanno capito molto meglio i parametri di riferimento, che non capiranno se voi partite dal basso o partite da metà, questi sono gli errori peggiori che potete fare, se partite dal top, io te lo faccio solo vedere per farti capire gli standard, del massimo livello di qualità che abbiamo. La vendita ragazzi abbiamo detto si appoggia su due aspetti fondamentali, che sono le skill, quindi la conoscenza tecnica della vendita, del dialogo con i clienti, del fare domande, del decodificare la comunicazione, c'è un modo in realtà di fare le cose. Se io devo imparare ragazzi, non so come voi, a fare il dentista, studio le skill, pratico un po', faccio bottega, quindi ho studiato tanti anni, sono diventato medico, poi sono diventato dentista, poi ho fatto praticantato, ho imparato le skill, imparando le skill, io sono dentista, a meno che io non vedo il sangue, come abbiamo detto, e svengo, quindi posso fare il dentista. Per la vendita noi abbiamo un problema, non è come il vostro mestiere di base, perché la vendita, la richiesta di apprendere delle skill, che voi non avete mai appreso perché non ve le ha mai insegnate nessuno, quindi vi affidate, come abbiamo detto, su gentilezza, educazione, parlare l'italiano, la conoscenza del prodotto, ma c'è un problema, che queste skill devono attecchire su un terreno, e il terreno è il vostro profilo psicometrico, cioè il vostro carattere, chiamiamolo qui, non è carattere la parola sbagliata, ma la usiamo in maniera ipersemplificata, in maniera scorretta per capirsi, quindi quanto siete determinati, quanto siete spigliati, quanto siete orientati agli altri, quanto siete in grado di decodificare la comunicazione, quindi tutte le skill di questo mondo, se sono appoggiate su un profilo che non funziona, non funzionano, quindi sono due cose da allenare, ragazzi, per diventare un venditore, le skill e allenare i propri limiti personali, quindi la vendita non è solo la teoria generica, perché vale per tutti, ma c'è un problema di quanto voi non siete in questo momento in grado di eseguire determinate cose per limiti caratteriali, diciamolo così, non è il carattere, ma questa è un'analisi che usiamo noi, questo si chiama Access First, è un sistema statunitense e tradotto anche in italiano, cioè in tutte le lingue, è utilizzato da tutte le aziende più grandi nel mondo di selezione, per comodità, senza inventare la ruota, lo adottiamo anche noi, perché funziona benissimo. Ci mostra le nostre tendenze, i nostri comportamenti e ci mostra quali sono i nostri comportamenti di successo, automaticamente in funzione del tipo di lavoro, se li da, quindi io faccio fare l'Assess First ai nostri venditori, per esempio, o a chi frequenta con noi Tana delle Tigri, quindi percorsi avanzati, ognuno fa l'Assess First e gli diciamo dammelo da venditore, se dovesse fare l'impiegato uscirebbe un altro tipo di profilo, quindi essere o meno adattato a certi tipi di lavori, serve anche per chi fa l'imprenditore, quanto sei adeguato a parlare con i dipendenti, fare le trattative con i dipendenti, quelle cose lì. In questo caso, ci sono tanti aspetti, non è che lo dobbiamo vedere, ma solo per darvi un'idea. La parte più importante per un venditore, diciamo, tutte sono importanti, ma la prima che io vado a guardare a colpo d'occhio è il quadrante in alto, in alto a destra, che è quello che vedete con scritto leadership e influenza. Ok, lì ci sono alcune caratteristiche dove, per esempio, la prima è, ha una certa influenza sugli altri, ok? Bene, questo ragazzo, vedete che ce l'ha a quattro, è nell'area rossa, cerca di convincere gli altri, ce l'ha a tre su dieci, va spontaneamente verso gli altri, ce l'ha a quattro, dà prova di diplomazia, ce l'ha a cinque, investe sul piano affettivo, ok? Quindi ci sono tutta una serie di parametri, in realtà, che dimostrano che questo candidato, questo è un ragazzo che si è candidato per venire a fare il venditore da noi e non l'abbiamo preso. Perché? Perché non è che questa persona non potrà mai fare il venditore, ma per gli standard della mia azienda e il periodo che io posso dare come onboarding ai venditori, so che su una persona del genere non riuscirei a formarlo, cioè mi ci vogliono due anni questo, con tutta la tecnologia che ho io, ci vogliono due anni a renderlo un venditore decente, quindi non lo assumo, perché evitiamo di perdere tempo in due, non significa che lui non possa mai fare il venditore, significa che io non ho le risorse, le energie, la struttura in azienda per tirarci fuori un venditore. Quando voi, magari un giorno vi sottoporrete, vedrete esattamente quali sono i tratti del vostro carattere che vanno sviluppati, quindi questi indicano la vostra determinazione, la vostra voglia di convincere gli altri, il quanto insistete, il quanto tirate sull'obiezione, la vostra timidezza, il quanto siete pronti a dire un prezzo senza battere ciglio e dire anche poco mi sembrava, ok? Quindi ci sono tutte quelle cose che hanno a che fare con la vendita, che io ve le spiego tecnicamente, ma poi c'è un problema nella realizzazione. È possibile che voi in azienda, no, è certo che voi in azienda abbiate delegato tante volte anche la vendita a persone che hanno delle caratteristiche tipo queste. Ogni volta che un ragazzo di questi, se io facessi come voi, l'avessi inserito in azienda senza analisi, lo metto in azienda a parlare con i clienti, nemmeno lo formo, io so che queste persone stanno disintegrando, quindi voi sapete perché non sono ricco, bisogna essere massoni, i soldi fanno i soldi, no, è che hai messo della gente che non è capace di vendere a parlare con i clienti e i soldi li state tirando nel cesso, state facendo marketing con la web budget e state tirando i soldi nel cesso, perché questa gente parla con i clienti e li brucia, tutti, uno dopo l'altro. Una persona così, che si mette di buona lena a voler imparare, piano piano migliora certamente, io non la prendo a lavorare per me, però è con voi, non è che voglio licenziare le persone, questa persona si mette in buona lena e allenandosi tanto nel corso del tempo aumenta, ok? Quei parametri crescono nel tempo se sollecitati allenati, appena smettete di allenarli però tornano giù. Il giorno che voi smettete di formare queste persone con il retraining, i giochi di ruolo, venite qua, il lavoro sul tono, arco di un mese, tornano storti come prima, questo è il problema. Cioè gli out point, cioè le zone rosse, le zone di difficoltà, le zone caratteristiche, perché lì ci sono delle informazioni proprio sbagliate che derivano dai genitori, dalle esperienze traumatiche che hai avuto, cioè sono dei file che sono corrotti, e non devi rispondere alle persone, e non devi essere invadente con la gente, e se uno ti ha detto così tu non devi insistere perché pare brutto. Ci sono tutte quelle informazioni che voi avete registrato tra i genitori e gli insegnanti comunisti a scuola e vi hanno reso quella persona lì, questa persona non è nata così, cioè tutte le aree rosse sono i traumi che tu hai somatizzato nel corso della vita dalla vita, la vita vi ha reso così, ok? Si può combattere, il problema è che per essere un venditore tu devi continuare a lavorarci, quindi alcuni tratti sono già forti, alcuni tratti si stabilizzano verso l'alto velocemente, alcuni tratti della personalità li devi tenere allenati, cioè la vendita in particolare, soprattutto per un ragazzo così, è un lavoro sul quale tu ti devi allenare all'infinito, sono così traumatizzate emotivamente che a spiegargli di sollevare l'obiezione, essere positivo, sorridere, fare domande, eh no ma tu ti devi fare i c***i tuoi, chi si fa i c***i suoi campa cent'anni, no? E figa il mestiere della vendita è farsi i c***i dei clienti, cioè se tu hai queste idee fisse bloccate, questi pregiudizi nei confronti delle persone, questo lo guardi, ti dice due frasi che non ti piacciono, immediatamente una persona dice questo è un c***o e non vado avanti, o vado direttamente a prodotto prezzo, tanto non compra e me lo tolgo dai c***i. Questa è una persona piena di idee fisse, piena di pregiudizi sugli altri, semplicemente perché non ci parla, due informazioni, ma io, questo è uno di quelli intelligenti tipo voi, ma io ho la sensibilità, io a pelle capisco subito i clienti, tu sei un c***o, a pelle, io capisco che tu sei un c***o di una violenza unica, perché se tu a pelle capissi, saresti milionario, invece sei una testa di c***o povero, che non chiudi un c***o di trattativa neanche se ti ammazzo, se ti ammazzo non la chiudi neanche da morto perché non gli fai nemmeno pietà, perché ti sta bene che sei morto, ti dicono. Allora questa persona gli dovete fare la messa tutti i giorni, perché questo se non gli fate la messa tutti i giorni, non lo portate sulla buona strada, non gli insegnate la tecnica, non gli insegnate che devi ascoltare per capire e non per giudicare, eccetera eccetera, dopo due giorni questo scopa male, a casa arriva e è già storto un'altra volta e sta bruciando i clienti. Non basta andare a scuola, per voi diventa un mantra, vi dovete allenare tutti i giorni con l'obiettivo di migliorare questi dati. Quindi è le skill e il vostro carattere di m***o. E io lo sapete perché lo so? Perché sono riuscito comunque ad ottenere un po' di successo nella vendita, nonostante io sia una testa di c***o con un carattere di c***o con una violenza unica, quindi se ce l'ho fatta io ce la può fare chiunque. Però bisogna dire ok, a parte le battute, mi devo mettere in discussione su sta cosa, io sono ruvido, su sta cosa sono troppo, non va bene, io devo fare più domande, mi devo mettere lì, devo capire il cliente, devo mettermi nei suoi panni, non è che la prima cosa che dice che non mi piace allora mando in bacca tutto, dico avanti, non funziona così, ci sono diciamo tre aspetti velocemente, cioè giusto per capire, questo già vi aiuta a sistemare tutto. Allora nella vendita, ok, esiste un prima, prima della trattativa, cioè cosa devo fare prima di incontrare il cliente. Ci dovrebbe essere nell'optimum un pochino di marketing, cioè far arrivare al cliente quelle informazioni che lo prequalificano e aiutano lui a prequalificarsi, noi a prequalificarsi, a spiegargli le nostre idee differenzianti, il come lavoriamo, quindi dovrebbe arrivargli un pochino di marketing addosso. Poi lo studio, quindi fare tutte quelle attività di raccolgo le informazioni, il lavoro sui social, il lavoro sulle schede aziendali, tutte queste cose qua, per raccimolare più informazioni possibile e la creazione quindi di quella che è una vera e propria scheda cliente preventiva prima di parlare con le persone. Se riesco a farla già prima di incontrarlo bene, se no dalla volta che lo incontro comincio a registrare la trattativa che ho fatto e le sue abitudini di acquisto. E poi allenamento. Quindi devo fare in modo di arrivare sulle trattative caldo, pronto. Quindi in azienda ci devono essere i momenti standard nei quali io faccio roleplay, ci alleniamo, facciamo retraining, parliamo di un passaggio e poi lo proviamo. C'è il prima, c'è il durante, il durante sto parlando no? È la trattativa, sono in contatto col cliente. Quindi il durante abbiamo detto ho lo, esattamente, quindi lo script innanzitutto fatto con le domande per analizzare il cliente per avere un dialogo con lui. Devo creare il dialogo, devo avere uno script. Poi le capacità abbiamo detto di speech, quindi devo avere giustamente, bravissimi ragazzi, il tono, bravi, bravi, perfetto. Il tono e avere una persona quindi con entusiasmo, quindi che ci crede. Entusiasmo perché abbiamo detto crede nel prodotto. Quindi è un problema anche di credo. Mi serve anche per avere questo, per allenarmi a questo livello, il libro delle testimonianze. Perché il libro delle testimonianze, tra le altre cose, quindi io mi addestro a queste cose, il tono, il credo, il libro delle testimonianze, ho lo script, tutte queste cose insieme, insieme al marketing che l'ha fatto prima, io lo faccio in questo momento, lo facciamo insieme, ho il lavoro di superamento, tra virgolette, delle obiezioni. Bravissimi ragazzi, perfetto. Noi le obiezioni le tireremo fuori noi ragazzi durante la trattativa per risolverle in temporale. Non aspetteremo di fare una presentazione prodotto prezzo e poi di dovermi parare dalle botte del cliente, che poi ha ragione perché io ho fatto solo una sbrodolata di spiegando le cose tecniche. Gli ho spiegato l'aereo ma non gli ho spiegato in realtà l'atterraggio a bora a bora, quindi è ovvio che abbiamo migliaia di obiezioni. Poi c'è il dopo, no? Questi sono i tre vagoni fondamentali. In inglese, prima, durante e dopo. All'italiana, prima, durante e dopo. Durante la trattativa, queste sono le cose che devo fare prima, queste sono le cose che devo fare durante, sono le cose che devo fare dopo. Dopo abbiamo detto, quindi abbiamo il concetto di follow up, inseguiamo il cliente per sapere, eccetera, eccetera, se va tutto bene. Utilizziamo questa cosa per continuare a vendere, no? Quindi per fare cross-selling, per fare up-selling. Se siamo stati bravi e abbiamo usato il frame che vi ho insegnato nel durante, in realtà nel grosso l'up-selling non ci serve tantissimo immediatamente perché siamo già partiti dall'alto e siamo scesi. Quindi invece che fare come fanno tutti, no? Medio o basso e poi cercare di andare in su, io parto dall'alto e faccio che se la costruisca lui come vuole. Dico, questi sono i Lego, mettila come vuoi, io te la do come mi dici tu e siamo a posto. Follow up, cross-selling, up-selling e una cosa bellissima che vediamo adesso, il modo, il metodo scandalosamente semplice per ottenere nuovi clienti e vendere di più da subito. Questo modo scandalosamente semplice è la tecnologia basata sui referral. Qui abbiamo i testimonial, testimonianze, le raccogliamo in un libro, ragazzi per dire, avete visto noi li abbiamo nei materiali cartacei, vanno nelle sales, vanno nei video che girano, vanno sui nostri canali, sui social, ok? E poi abbiamo i referral. I referral sono il modo più scandalosamente semplice per ottenere nuovi clienti e vendere di più da subito. Io adesso vi do sette modelli, ok? Vanno bene per tutti, qualcuno si focalizza più su alcuni di questi, qualcuno, ok? Non è che tutti e sette li dovete fare contemporaneamente, anche noi a seconda di quello che facciamo, il programma che vendiamo, ne usiamo alcuni, ne usiamo altri, che per alcuni modelli di business alcuni sono più comodi, altri, però in realtà sono sette così, siete sicuri di averli tutti. Il problema, ragazzi, dei referral non è tecnico, è un problema di carattere di quello che mettete davanti ai clienti e deve dire sta roba. Ci crede nel prodotto? Crede che ci meritiamo che ci presenti a qualcuno? Perché se non ci credi è un problema enorme, non lo farà. Quindi la persona che mettete lì non lo fa. E passa parola in italiano, quindi un cliente che mi porta un altro cliente. Quindi voi invece che dare due, trecento euro a Facebook, a Google per ogni cliente, magari potete diffondere uno zin tra i vostri collaboratori che sono più bravi a portare i referral, ok? Quindi potete incentivare le persone, ok? Quindi però è sempre un problema, ragazzi, di formare le persone, dargli degli obiettivi e su quello dargli degli incentivi. E vedere che le persone ottengono dei risultati, guadagnano di più facendo questa cosa è importante. Chi ha dei ristoranti, lo dico perché ho visto che c'è qualche ristoratore, perché, lo cito, perché se io lavoro nel B2B ho le fatture dei clienti, tra virgolette, quindi ho i dati di contatto in maniera molto più semplice. Chi lavora nel B2C tante volte, quindi non ha la fattura, un dentista raccoglie i dati di contatto della persona, il ristorante no, come i negozi, c'è un'attività nella quale uno normalmente entra, si siede, paga e se ne va a f***o. E il ristoratore, la prima cosa che dovrebbe fare uno che ha un ristorante, è mettere la persona, una persona responsabile, o formare il cameriere eccetera eccetera, che ogni persona che entra bisogna offrirgli la tessera e va registrato. Ma se tu non spieghi agli uomini perché è importante, non li formi e non gli fai lo script, non gli insegni il tono e non gli dai la tessera, non gli spieghi qual è il bonus per fare queste cose, non gli spieghi che noi quei dati sono importanti perché così possiamo fare remarketing e retargeting sui clienti, quindi il ristorante diventa un'azienda vera perché ha un bacino di clientela del quale noi poi nel tempo conosciamo anche le abitudini di acquisto e tutte le volte gli possiamo fare le offerte e torna per il compleanno e per quello e per la festa. E quindi io creo un ristorante che funziona. Ma se voi non raccogliete i dati, pagherete soldi a Facebook e Instagram per tutta la vita, per l'anima del c***o, dovete raccogliere i dati. Ognuno che entra in un negozio di attività dove non ci sono fatture identificative del cliente, il primo compito per vendere è che innanzitutto raccogliamo i dati e poi dopo il resto si può fare. Non è che l'ho imparata in America e vi racconto, è che i ristoratori italiani non sono imprenditori, sono pigri per loro, il marketing è una roba strana e quindi qualunque cosa sembra fantascienza. Ma non è fantascienza, tira fuori una c***o di tesserina e a destra il cameriere a fare sta roba. Incentivali economicamente perché tu sai che ogni tesserina raccolta in realtà è un cliente ricorsivo, dovresti essere in grado di calcolare la differenza tra il lifetime value di un cliente che è registrato con noi e un cliente che non è registrato con noi. Quindi per noi è oro, l'oro sono il numero di tesserine. Cioè io riesco a prevedere il fatturato di un ristorante dal numero di tesserine che quotidianamente registra. Il ristorante fallisce perché tu apri, metti la mamma in cucina, tua moglie in cucina, te hai i tavoli, bestemmi con un paio di camerieri stagionali handicappati e come c***o sopravvive sto ristorante. Il tuo lavoro non è cucinare. Il tuo lavoro è raccogliere dati di contatto e schede ai clienti e poi servire ai clienti. Certo, cucini, il prodotto è quello, grazie al c***o devi cucinare. Quello lo farà il cuoco cucinare. Il zio c***o devi fare impresa. Fare impresa è raccogliere tesserine e raccogliere schede ai clienti. Qualunque sia il lavoro di tutte le professioni che abbiamo visto prima, sono tutte uguali. Raccogliere dati di contatto, compilare schede di clienti e imparare a vendere, quindi di conseguenza. I magnifici sette, referral. Sette semplici modi per ottenere clienti praticamente gratuitamente. Ci hanno fatto guadagnare, ci fanno guadagnare milioni ragazzi e noi, quindi funzioneranno anche per voi. Funzionano per tutti i miei studenti che li applicano, funzionano per me perché sono importanti. Acquistano di più i referral. Si fidano di più perché sono stati mandati da qualcuno. Acquistano a prezzi più alti rispetto a uno che non mi conosce perché si fidano e portano ancora più clienti. È il famoso passaparola. Vediamo quali sono, ragazzi. Velocemente, sette tattiche. La prima, la più facile, dove dovete addestrare però la gente. Deve dire questa roba. La prima tattica di successo è semplicemente chiedere chi altro conosci che potrebbe essere interessato? Funziona particolarmente perché tra l'altro fa pensare alle persone a nomi specifici piuttosto che dare una risposta sì o no. Non è uguale, se no ragazzi vi avrei detto conosci qualcun altro? No! No, se no scrivevo conosci qualcun altro che? E se non l'ho detto non lo devi dire manco tu perché l'ho inventato io il sistema e so come c***o funziona, non lo devi cambiare. Chi altro conosci? Perché chi altro conosci attiva mentalmente la persona a pensare dei nomi, no? Invece che dire conosci qualcuno? Conosco qualcuno? No, no, conosco nessuno. E poi ovviamente con tutto il piano di incentivazione di referral che c'è dietro lo dovete strutturare. Ma la base del discorso è questa. Come possiamo fare? La strategia carta regalo funziona molto bene sempre, funziona molto bene durante le festività. Qualunque iniziativa che voi volete che funzioni. Quindi davanti a un referral offrite una carta regalo del valore di un servizio magari di frontend che fate con uno sconto al 90% o più, addirittura gratuito per questa persona. Assicuratevi magari che le carte siano limitate, non lo so, a due, massimo tre per cliente, abbiano una scadenza molto vicina e che la carta regalo sia specifica e nominale. Così controllate quante di queste offerte al 90% di sconto gratuiti vanno via. Quindi devono essere nominale, la persona vi deve dare il nome, li dovete dare, va registrata, quindi a una persona specifica. Non così, a caso, deve essere arrivato un referral in funzione di quello, voi date la carta tra virgolette bonus, sconto, omaggio eccetera eccetera per il cliente nuovo che deve venire e in funzione poi dei clienti che verranno effettivamente ci sarà un bonus, premio, omaggio, sconto anche per la persona che vi ha dato il referral. Quindi le carte siano per sapere chi viene a richiedere quel tipo di offerta e premiare dopo le persone che si stanno ovviamente spingendo per darci il referral. Quando qualcuno, ragazzi, vi chiede uno sconto, non dovrebbero chiederlo, ma diciamo che qualcuno vi chiede lo sconto, va bene, negoziate, negoziate lo sconto. Io te lo faccio lo sconto, però chiedete ai clienti i nomi di tre amici in cambio. Questo può facilmente trasformare una richiesta di sconto in tre potenziali lead gratuiti. Quindi lo sconto erode margini, possiamo fare il cambio merce in realtà che io ho, i servizi a me costano zero o addirittura la merce comunque mi costa molto meno di quello che io la rivendo. Per esempio posso offrire più servizi invece di uno sconto diretto. Ad esempio se uno sconto di 300 euro equivale a 50 euro di costo reale, offro 600 euro in servizi aggiuntivi che a me costano 100 euro per esempio. E dall'altra parte gli sto facendo uno sconto di 600 euro però a lui, a me sta costando 100. Quindi anche per chi ha delle materie prima dei prodotti, a te non costano mica il prezzo che dici a lui. Quindi in realtà stai giocando su questo passaggio, no? Per molti di voi ragazzi che hanno studio dentistico, estetista, saloni o cose del genere, no? Voi non è questo il corso, voi siete stati abituati molto male, malissimo, a considerare informazioni stupide come il costo cabina, orario. Sono tutte c***e, non mi interessa che vi le insegnate, sono tutte c***e. I vostri business che si basano sulle poltrone si basano sui costi fissi. Sono solo business sui costi fissi. Perché una poltrona che non sta lavorando in realtà è un c***o di costo fisso comunque. Perché l'affitto lo state pagando, la dipendente lo state pagando. Non è che 2 euro di crema sono il costo, non è quella roba lì. È un c***o di business che si basa sui costi fissi. Quindi voi potete utilizzare in realtà tutte le ore vuote che avete, fare revenue, tutte le ore buche che avete. In realtà se non le usate, non ci dovete guadagnare. Usatele per fare marketing, usatele per fare le offerte. Metteteci le persone che vengono a richiedere lo sconto, il bonus. Mettetele in ore che non state lavorando. Sono ore che state pagando comunque. La dipendente la state pagando, l'affitto la state pagando, acqua, luce e gas la state pagando. Se vi sento dire ma il costo orario cabina, vi meno. La dovete finire con quelle m***e e di formarvi da ritardati. La dovete smettere. È un c***o di business basato sui costi fissi. C'è una c***o di poltrona vuota e voi la usate per fare marketing. E la usate per gestirvi le offerte, per gestirvi la scontistica, per fare revenue. Non vi dico di, ragazzi, se avete il ristorante, di offrire un c***o di tavolo o fare le costine il venerdì sera. Grazie al c***o che il venerdì santo ce l'avete sempre pieno. Ma il martedì sera che non viene un c***o di nessuno, se portate dentro qualche cliente con i front end per poi sperare di convertirli, vabbè è vuoto quel c***o di locale di m***a. Vai a break even con l'offerta, gli fai un prezzo che tu vai a punto di pareggio. Tanto sono tavoli, ce li avete vuoti quei c***o di tavoli. Per chi ha le linee produttive uguali, durante la stagionalità, dipende dal modello di business, sono business che si basano su mesi vuoti, business che si basano su giornate vuote nella settimana, business che si basano su orari vuoti durante la giornata. Usateli per fare marketing, usateli per fare le offerte, usateli per comprare referral, per mettere, per fare offerte straordinarie, in media in ore più o meno buche. Riuscite a dare un'immagine enorme di sconto, di cose. Questo raddoppia ragazzi, quindi facendo in questo modo il valore percepito incoraggia un maggiore utilizzo sempre in cambio di referral. Straordinario, no? Facile, bello, semplice. Quarto, dopo una vendita dite al cliente che la prossima volta può ottenere il prodotto gratuitamente raccomandandolo ad altri o con forti sconti raccomandandolo ad altri. Se diventa un vostro promoter, gli offrite 100 euro, 100 euro ragazzi è una cifra a caso ovviamente, gli offrite un X, uno ZIN, ogni referral di successo. Cioè voi gli date le schedine, gli date i materiali di marketing, lui vi consiglia con le vostre schede, con le vostre cose. Tutte le persone che arrivano portate da lui, lui dice quindi ci sarà il buono per il referral che entra dentro e un buono, una compensazione per lui. Perché devo regalare i soldi a Zuckerberg o quelli di Google che sono già ricchi per i c***o loro? Magari, cioè, li distribuiamo tra di noi, faccio i conti, mi conviene. Non ci guadagno niente sulla prima transazione ma mi avete portato un cliente. Sul primo corso non ci guadagno niente, ve lo regalo tutto a voi. Se rimane un po', avrà un po' di lifetime value questo c***o di cliente. Guadagnerò, se sarò bravo, lo convincerò che quello che facciamo è buono, rimarrai e guadagnerò lì. Cinque, sfrutta il momento di successo di un servizio per chiedere il referral. Quando un cliente è soddisfatto, appena beneficiato dal vostro servizio, chiedetegli immediatamente di raccomandarvi agli altri di raccogliere i dati subito. Potete, come facciamo noi, scattate una foto con loro e inviate la via WhatsApp ai potenziali di referral dal loro telefono, chiedetegli di farlo. Di mettervi in una chat comune su WhatsApp. Mi metti una chat con loro, ci facciamo una foto, gliela puoi mandare al tuo telefono. Dici, guarda che questo è il ragazzo che mi ha il ristorante più bello della città, mi ha venduto la casa, il mio dentista personale, mi ha aiutato a fare questa cosa, il mio consulente, il mio fornitore di se hai bisogno, ti ho messo in contatto, sentilo, perché è veramente top. Cioè, WhatsApp è gratis, vi sto insieme a tutti. Fai una foto, insieme, siete lì, foto, mandi, puoi presentarci. Ciao Giovanni, ti posso mandare un pacchettino per farti sapere come lavoriamo? Sì, sì, mandate il pacchettino, li richiamate, fissate un appuntamento, ci consigliate a qualcuno. Noi a spese no, ovviamente, no? Li mandiamo noi il pacco di presentazione, eccetera, eccetera, li richiamiamo. Giovanni, hai visto? Giovanni ti ha parlato bene di noi. Hai letto la roba che ti abbiamo mandato? Vogliamo vederci, vogliamo parlare, vogliamo vedere se possiamo dare una mano? Sì, dai. E da lì parte la trattativa. Sesto, organizza eventi di ringraziamento per i clienti, eventi speciali, in realtà, per i clienti, come noi facciamo di continuo, e invia inviti anche scritti a mano quando capita. O incoraggia i clienti, chiaramente, a portare amici, conoscenti, parenti, specificando che possono scattare una foto dell'invito e inviarle ai loro amici per entrare all'evento. Ne abbiamo i kick off fatti apposta che sono per i nostri studenti che ci portano, qualcuno di voi sarà già venuto, avrà portato, qualcuno di voi è venuto in quel modo lì, o durante i kick off, o durante il referral revolution, ci sono tutti eventi gratuiti che noi organizziamo dove i nostri clienti portano altri clienti e li riserviamo e gli stai fatto così. Noi il business lo facciamo così. Voi che portate, ragazzi, altre persone perché voi siete rimasti contenti, ci mettete la faccia e per noi è molto meglio se voi dite oh, guarda che da Frank c***o, quindi non ti incul... cioè, roba figa, seria, ok. Andiamo insieme addirittura, ti porto io, facciamo un weekend, ti faccio vedere. Settimo, la richiesta al coniuge funziona bene per i servizi che le coppie possono fare insieme. Stessa cosa chiaramente nel business per un eventuale socio, un amico imprenditore. Il mio dentista, mi vuoi chiedere se ho dei figli? Certo, se tu non mi inviti e non mi fai un'offerta, non te li porti. I miei soci, i miei direttori, non ti posso fare... Io ho 100 dipendenti, ti posso sponsorizzare nella mia azienda? Se tu non me lo chiedi, io non è che sono... Non mi viene in mente, zio cari, pigliati. Oh, possiamo fare una convenzione? Ah, cazzo, non ce l'ho pensato. Sì, dai, ti mando i miei ragazzi. C'hai 100 clienti in un colpo solo. Adesso magari sono divisi un po', non è che sono tutti... Utilizzate una statistica che mostra, per alcuni esempi, che mostra tassi di successo più elevati per coloro che lo fanno con gli altri, incoraggiali a partecipare. Non venite da soli, cazzo, perché dopo dovete tornare in azienda a litigare. Parliamo con questo cazzo di socio storto, lo mettiamo dritto insieme, e se lavorate insieme vedete che le cose funzionano. O venite anche con un socio, con un altro amico imprenditore, fate il percorso insieme, perché insieme diventate più accountable. Cioè venite, vi ricordate gli appuntamenti, studiate, non vi perdete di mazzacare. Avete una persona che vi capisce, che vi sostiene, anche se non è la stessa azienda. Cioè venite con più persone, perché se siete insieme vi spronate, vi ricordate le cose, se vi demoralizzate avete qualcuno con cui parlare. Ricordate ai clienti di portare un amico, un conoscente, un parente eccetera eccetera in tutte le comunicazioni, ragazzi, che farete di marketing poi nel tempo, no? Queste qua. Quindi ripetete questo messaggio nei messaggi, su Whatsapp, nelle chat, via email, nelle sales, sul sito, costantemente per aumentare significativamente il passaparola. Quindi, ok? Spingete su questi sette punti, organizzateli per la vostra attività. Ragazzi, solo con queste cose che abbiamo visto questa mattina, potete decuplicare le vendite rispetto a qualunque dei vostri concorrenti, senza aver cambiato ancora niente della vostra mentalità e senza avervi messo nessuna skill particolare, perché in realtà non viene, vi sono detto fai questo e sono cose che si possono fare semplicemente perché te le ho dette. Non è che devi imparare. C'è scritto dillo. Quindi, ragazzi, ricordatevi che su questi passaggi, questi basta farli, poi bisogna lavorare sul resto. Quello che posso dirvi è buona fortuna. Caro imprenditore, davvero il tuo destino è fare la guerra ogni giorno contro clienti a caccia di sconti, collaboratori tossici e fornitori che ti tengono per la gola? Non è certo questo il futuro che immaginavi quando hai aperto la tua attività, tra settimane lavorative da 80 ore e soldi in tasca che non ripagano tutti i tuoi sacrifici. Eppure oggi, oltre 24.000 imprenditori hanno imparato a battere la concorrenza e avere la fila di clienti altospendenti più di quanti ne abbiano mai sognati. Il loro segreto? Hanno partecipato a Kickoff, il primo corso di marketing a guadagno istantaneo. Frank Marenda, l'esperto di marketing numero uno in Europa, ti aspetta nel suo centro studi. Per te, strategie pronte all'uso per moltiplicare i clienti, vendite e soldi in cassa, già testate con successo su migliaia di aziende. Scopri qui sotto l'offerta speciale per partecipare al prossimo Kickoff e approfittare di oltre 2.000 euro di bonus.